C'è il numero legale, grazie signor Segretario. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta. Riccardo Piccinato, Giacomo Manfrin, Giuseppe Perrone. Non mi risultano consiglieri assenti, arriveranno in ritardo i consiglieri Matteo Loro e Walter De Bortoli. Ecco, do la parola al Consigliere Franchin per un ricordo. Prego. Grazie, signor Presidente. La mia richiesta è legata al fatto che questa Aula, visto gli anni scorsi la presenza di Mauro Trovo, la veste di un riconoscimento che la comunità ha voluto attribuirgli per una capacità di essere professionista e personaggio della grande umanità. Allora, il mio ricordo stasera è solo per dire due parole su perché questa Sala, secondo me, deve spendere un minuto per ricordarlo. Perché nei discorsi che stiamo facendo da mesi in questa Sala, la centralità è stata la capacità di innovare, di innovare un territorio, di innovare una città, anche attraverso la professionalità, in un lavoro così difficile com'è in questo momento e complesso com'è l'oncologia. E quindi io vorrei che ricordassimo di lui, un uomo con cui ho condiviso 35 anni della mia quotidianità, vorrei che di lui rimanesse questa grande capacità di essere innovativo per la nostra città, per il nostro territorio. Cioè portare grande tecnologia al CRO e farla girare vuol dire dare credibilità al nostro territorio e la grande capacità che ha avuto di essere punto di attrazione per molte giovani generazioni di tecnici, infermieri, medici. E quindi questa grande apertura per il mondo giovanile, che è la cosa su cui noi in questa Aula ci siamo più volte concentrati. Quindi chiederei al Sindaco di averlo. Grazie. Grazie consigliere Franchini. Do la parola adesso al Sindaco per un altro ricordo. Prego signor Sindaco. Sempre il 5 novembre abbiamo avuto in città un altro lutto. Giovanni Sandrin, noto avvocato e noto professionista della città, è improvvisamente mancato per un attacco cardiaco. Volevamo questa sera ricordare anche questa figura che oltre al profilo professionale indiscusso, era notissimo nel nostro territorio, al di fuori della città, è stato, lo è, il profilo, Giovanni Sandrini è stato un importante protagonista della vita politica di Pordenone. E' stato per tre volte consigliere comunale ed assessore nella giunta del Sindaco da Ross, quindi negli anni che andavamo dal 67 al 75, è stato assessore. E quindi in momenti particolarmente animati della vita politica, lui si occupava, se ben ricordo, dell'edilizia, del settore dell'edilizia, e quindi al centro di dibattiti che l'hanno visto molto spesso protagonista animato della discussione. E' stata una perdita improvvisa che ha colpito molto, molti di quelli che gli erano vicini, sicuramente il suo mondo professionale, in generale, la comunità politica di Pordenone, persona rigorosa e penso che siamo sicuramente vicini alla moglie, Adriana, alle figlie Giuliana e Francesca, ai fratelli Mario e Sandro. Volevo chiedere al Presidente un minuto di silenzio per entrambi. Chiedo ai signori consiglieri un minuto di raccoglimento. Grazie. 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 Vi ringrazio. Comunico all'Assemblea che essenzio l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico all'Assemblea le decisioni prese dalla conferenza dei Presidenti e dei gruppi consigliari in merito all'ordine dei lavori. Si inizierà dedicando i primi 30 minuti all'esame di interrogazioni, dopodiché si passerà alle proposte di deliberazione con un accorpamento per la presentazione e discussione delle proposte numero 38 e 39 e ovviamente poi però con separate votazioni, dopodiché si proseguirà fino all'esaurimento delle stesse. Se rimarrà tempo si affronteranno poi le mozioni. La seduta si chiuderà alle 22.30 salvo prosecuzione per le proposte di deliberazione. Chiedo al Signor Sindaco se ci sono comunicazioni. Prego. Grazie Presidente. Ho una comunicazione relativa alla delibera 184 del 17 ottobre 2014 avente come oggetto prelievo dal fondo di riserva per versamento in posta di registro. Quindi secondo l'articolo 40 del regolamento è prevista questo tipo di comunicazione in Consiglio. Di che cosa si tratta? Si tratta, vado direttamente al deliberato, si tratta di prelevare dal fondo di riserva la somma di 2.710 euro per l'esercizio finanziario 2014 con destinazione appunto a copertura della registrazione dell'atto del Tribunale amministrativo che ci riguardava e che avevamo già discusso qui il 26 maggio 2014, la cosiddetta causa cosmic. Qui si tratta di coprire, con questi 2.710 euro, di coprire quindi la registrazione dell'atto, le spese della registrazione dell'atto. Sono, ripeto, 2.710 euro che preleviamo dal fondo di riserva. Grazie, signor Sindaco. Bene, allora come da programma dedichiamo la prima mezz'ora di interrogazione. Sono le 18.41 e affrontiamo la prima interrogazione. Presentata dal gruppo misto consigliere Daniello Sonia. Interrogazione numero 47. Oggetto, il gesto estremo di un barista pordenonese è legato alla burocrazia malevola dell'amministrazione? Leggendo i giornali locali e le notizie ANSA si apprende che un barista pordenonese, gestore da 12 anni del caffè letterario, sia crollato emotivamente dopo aver appreso la notizia prima e la notifica poi, da parte di questa amministrazione comunale, di essere stato escluso dalla procedura di gara per non aver presentato la fotocopia della carta d'identità. La sottoscritta chiede, il fatto è vero e si può ricondurre a queste motivazioni? Si è usato il doveroso metodo dirigente con rispetto alla garanzia dell'APA nelle comunicazioni, tipica di un'amministrazione attenta al cittadino? Quale procedura di gara è stata usata e se si sia usata la più idonea? C'era la possibilità di ricorrere ad altra forma legale e regolare alle norme attuali per l'assegnazione della gestione del locale in questione? Perché il Direttore Generale definisce l'amministrazione conciliante? Per il nome sulla semplificazione della documentazione amministrativa, capo terzo, testo unico DPR 28 dicembre 2000, numero 445, gazzetta ufficiale 20 febbraio 2000, si crede sia stato seguito tutto il possibile per evitare l'esclusione dal bando della persona in oggetto senza provocare danno a nessuno? E' auspicabile che un'amministrazione pubblica sia oltre che conciliante anche amministrazione a servizio delle persone, come previsto a testo coordinato 7 agosto 1990, numero 241, gazzetta ufficiale 18 agosto 1990, umanizzando le risposte nel rispetto di norme, leggi e procedure che garantiscono equità, lealtà e trasparenza? Firmato Daniello Sonia. Prego, signor Sindaco. Grazie, Presidente. Risponderò, cercherò di rispondere punto per punto, riservandomi di rispondere al primo, quindi il fatto è vero, si può ricondurre a queste motivazioni, per ultimo. Allora, il secondo punto parla di se è usato il doveroso metodo diligente con rispetto delle garanzie della pubblica amministrazione nella comunicazione tipica di un'amministrazione attenta al cittadino. Sì, abbiamo usato tutte le modalità comprese nel bando, perché di questo si trattava, ed era un obbligo fare un bando per l'assegnazione di questa struttura. e la nostra attenzione, proprio usando quello che era previsto a bando e descritto chiaramente, era di garantire che il livello di informazione fosse identico, trasparente a tutti i partecipanti al bando stesso. Terzo punto, quale procedura di gara è stata usata e se sia usata la più idonea? E la risposta è una procedura aperta per le concessioni di locali comunali del patrimonio indisponibile. Cioè qui non era una... non si trattava di andare a vendere o allienare un nostro bene, si trattava di, visto che questo è uno dei beni fondamentali del patrimonio del comune, di dare una concessione per il suo utilizzo con determinati criteri. Il criterio che è stato scelto è stato quello dell'offerta più vantaggiosa, non quella del massimo rialzo, cioè del massimo affitto che noi si poteva incassare dalla esecuzione di questo bando. E i parametri che sono stati introdotti nel bando stesso prevedevano la prevalenza, quindi che il giudizio sulla parte culturale del progetto valesse il 55% del peso, mentre la parte sul canone d'affitto pesasse per il 45%. Quindi si è dato la massima attenzione al fatto che questa struttura venisse adoperata secondo uno spirito di tipo affine ad un progetto culturale, cosa per la quale la struttura stessa da sempre era stata pensata ed era stata destinata. Quarto punto. C'era la possibilità di correre ad altra forma regale regolare alle norme attuali per l'assegnazione della gestione del locale in questione? Solo con una gara, quindi con un bando come questo si può dare una struttura di questo tipo con le modalità che noi abbiamo richiesto, quindi con un progetto culturale e con un canone di affitto. Solo con un bando di questo tipo si poteva pensare di assegnare una struttura così importante. Ecco, su punto 5 penso che sia opportuno coinvolgere anche il Direttore Generale per stabilire questa frase, dare senso a questa frase, perché il Direttore Generale definisce l'amministrazione conciliante. Prego. Fermo restando che quel tipo di aggettivo è stato utilizzato in un momento comunque di forte tensione emotiva per me che andavo comunque a rispondere e a spiegare il comportamento dei dipendenti e quindi di chi era in commissione e di chi aveva operato su questa procedura. Io ho utilizzato questa definizione perché ricostruendo le circostanze per quanto dico io direttamente non sia più di tanto entrato nella procedura ho potuto capire che poi con un uomo come un imprenditore come Giovanni Scritzi era facile anche essere concilianti per come si poneva lui per la sua simpatia e per le altre cose e quindi io ho potuto ricostruire da un lato che le sollecitazioni che lui ha avuto degli uffici quando pagava in ritardo i caroni di locazione sono sempre state nei modi e mai in modo aggressivo tant'è che anche al momento della gara aveva definito da poco alcune mensilità in ritardo e quindi senza dover muovere comunque azioni legali o altro ma comunque sono state fatte delle solidazioni nei modi quindi umani direi che magari non sempre usiamo nella pubblica amministrazione perché noi che siamo sempre all'altezza sotto questo tipo di stile per la vicinanza fisica degli uffici della cultura e istruzioni che erano lì fuori quindi che da anni quindi di passaggio lo frequentavano e nella fase di preparazione del nuovo bando c'era stata un'interlocuzione abbastanza diciamo consistente perché si è definito anche assieme cosa se per caso avesse perso cosa avrebbe fatto degli arredi tant'è che si è arrivati a una sua proposta con la definizione di un prezzo che è stato messo in gara per l'utilizzo degli arredi se lui avesse per caso perso condiviso quindi in più incontri un prezzo poi validato dai nostri uffici tecnici poi i rapporti ancora che non potevano che essere anche informali perché era un uomo un imprenditore che la PEC non l'apriva quasi mai e la mail neppure e che quindi bisognava passare e dice come mai guarda che c'è la gara guarda che c'è la commissione perché era più attento ad altre cose e la stessa missione con riserva dell'offerta pur a fronte di di una irregolarità che è difficile capire che io capisco è difficile da spiegare è difficile da capire ma che purtroppo gli uffici hanno dovuto applicare cercando anche perché io poi ricordo in qualche momento poi mi è stato anche chiesto così un orientamento nel momento quindi che hanno trattenuto la procedura dice lo mettiamo con riserva e poi vediamo è emerso che non riuscivamo neppure ad applicare le nuove normative che erano uscite perché qui questa non è una procedura di appalto non è una concessione quindi non si applica il codice dei contratti ma solo alcune cose che sono scritte nel bando e quindi non c'è stato neppure quindi anche la possibilità di utilizzare procedure più come dice più favorevoli al partecipante che sono che sono entrate in vigore proprio in quel periodo lì quindi io direi che favori non li sono stati fatti ma non è stato trattato in modo duro arrogante come alle volte ci può anche capitare perché da vertice dell'amministrazione devo rispondere anche quando i miei collaboratori non si comportano bene o magari emotivamente hanno degli atteggiamenti duri nei confronti di chi intraprende o dei cittadini ma in questo caso direi proprio di no ecco concludo mancano ancora due punti perché il sesto che riguarda per le norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa penso che il segretario abbia già anticipato la risposta restano due punti cioè il primo la prima domanda il fatto è vero si può ricondurre queste motivazioni si allude al crollo di questa persona ecco io non si lo vedo voglio andare per un attimo al consiglio in cui il consigliere Giannelli ha fatto un intervento proprio su Giovanni Scrizi e l'ha commentato la figura di Giovanni Scrizi sottolineando che sarebbe veramente un torto alla personalità e la sua intelligenza pensare che questo fosse stata la motivazione ricordo perfettamente il passaggio me lo sono andato a vedere anche prima noi non abbiamo doti divinatorie capaci di andare a leggere e a capire le motivazioni di un gesto estremo come questo ma io vorrei associarmi credo che ci siamo associati tutti quella sera quando abbiamo fatto il minuto di silenzio proprio alle considerazioni di Giannelli che come persona che era stata gli era stata vicina che aveva condiviso anche se abbiamo capito bene scorribande interessanti ecco aveva avuto un tocco nel ricordare questa persona che forse ci ha fatto inquadrare tutta la vicenda anche insomma in una visione più vasta e più sentita da tutti noi sul fatto dell'amministrazione trasparente infine e conciliante quindi umanizzando le risposte nel rispetto di norme io penso che questa amministrazione in questi anni abbia dato continua prova come accennava il segretario anche se lui è arrivato recentemente abbia dato continua prova di una trasparenza di una vicinanza rispetto ai cittadini che abbiamo cercato di migliorare sempre di più non si sta dicendo siamo ben lontani dal dire che noi siamo perfetti sia ben chiaro ma lo sforzo e il continuo come si dice il continuo invito a cui che questo accada tutti noi che lavoriamo all'interno di una struttura così complessa come questo in un momento così complesso come questo penso sia sull'occhio di tutti nell'occhio di tutti e sotto gli occhi di tutti quindi il fatto che qui ci sia stata un'amministrazione malevola se malevola vuol dire che per definizione è contro qualcuno perché questo è il senso dell'aggettivo io direi che questo non proprio non ce lo meritiamo non ce lo meritiamo e a volte questo attacco precostituito e quasi che abbiamo visto sui giornali quasi basato su un pregiudizio nei confronti della pubblica amministrazione delle persone che ci lavorano secondo me è stato per certi passaggi vergognoso e adesso che l'emozione è passata perché alla fine di mezzo c'era una persona era il caso di soffermare la nostra attenzione proprio su scrizi possiamo anche dircelo certe cose sono state rileggendole adesso a qualche tempo di distanza sono state sicuramente esagerate sopra i toni e invito le persone che hanno dichiarato quelle relazioni l'invito da qua dal Consiglio Comunale a rileggere bene le cose che hanno detto e a capire se effettivamente le pensano ancora oggi grazie signor Sindaco prego consigliere Daniello sì grazie grazie presidente allora dalla risposta sono contenta a metà perché quell'accadimento è stato motivo di discussione fra tutti ha colpito tutti i cittadini di Pordenone proprio per chi conosceva scrizi e la mia è stata appositamente una riduzione la riconduzione nei termini di queste regolette di queste leggine proprio perché credo che la burocrazia che appartiene all'ente pubblico serva ai cittadini come al servizio sia al servizio del cittadino no e non credo assolutamente che ci sia una burocrazia malevola certo va gestita e credo anche che se gestita e saputa gestire la burocrazia può diventare e può essere umanizzata ho colto benissimo segretario che cosa intendeva e grazie di aver sottolineato quello che ha detto comunque insisto che l'umanità va coltivata e consiglio di leggere a tutti un piccolo libretto di Fabrizio Battistelli dal nome Burocrazia e Mutamento per sua zona retorica dell'innovazione amministrativa è come se si immaginasse in questo libretto la pubblica amministrazione è una nave da crociera dove ci sono armatori capitani commissari di bordo e direttori di sala l'ipotesi che è sostenuta nel libro e che mi vede convinta è che al di là di qualsiasi pur utile provenimento giuridico però l'obiettivo rappresentato dall'efficace conduzione della nave e dalla soddisfazione del passeggero potrà essere solo perseguito soltanto quando è interiorizzato dall'intero equipaggio e le modalità nuove di comportamento non ci si arrambiano con queste modalità nuove di comportamento non ci si deve arrampicare sugli specchi con il giurista che oggi fa da padrone nelle pubbliche amministrazioni è un ruolo difensivo per la pubblica amministrazione perché presidia e legittima la legalità dell'azione e ciò che dovrebbe essere il fine dell'attività amministrativa diventa che deve essere a servizio della comunità e del cittadino diventa fine e scopo solo per l'amministrazione stessa che riconosce il diritto giuridico dell'azione per sé e non per il cittadino stesso invece non ci vuole chiaramente un giurista per cambiare mentalità signor sindaco lo sappiamo tutti ci vuole l'interiorizzazione ed un radicale cambiamento di valutazione culturale in merito alla governance dell'amministrazione che non lo fa illegale ma lo fa l'azione politica dell'amministrazione e dell'amministratore qui sta la scommessa per far sì che da noi anche da Pordenone e anche da questo tipo di amministrazione che credo nelle parole che ha detto ritorno a dire che credo nelle parole del segretario generale non diventi e non sia letto come carnefice ma possa cambiare ed essere vista invece come collaborante e collaborativa e conciliante sì quindi umanizzante a volte come amministrazione pubblica perdiamo queste occasioni grazie consigliere Daniello passiamo ora ad esaminare l'interrogazione numero 48 imposta sulla pubblicità la sottoscritta consigliere comunale Mara Piccin premesso che l'imposta sulla pubblicità è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive e acustiche diverse da quelle societate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e che l'installazione di qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario anche se in esenzione di imposta deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio comunale competente considerato che la materia è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507 successive modificazioni e integrazioni a cui il Comune di Pordenone ha dato esecuzione tramite regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 69 del 7 luglio 94 numero 131 del 5 dicembre 1994 ed entrato in vigore in data primo gennaio 1995 appreso che negli ultimi mesi la ICSRL in poste comunali affini società che si occupa di riscuotere la tassa sulla pubblicità per il Comune di Pordenone ha elevato numerose sanzioni promesse a denuncia di installazione di mezzi pubblicitari ai commercianti del centro cittadino considerato che queste multe vanno a incidere sul bilancio dei commercianti pordenonesi che hanno osato investito e creato occupazione commercianti già messi alle strette dall'aumento delle altre tasse comunali dalla tasi alla tariffa per le soste a pagamento tutto ciò premesso e considerato interroga il signor sindaco e l'assessore competente per sapere 1 quanti verbali di avviso di accertamento con immediata erogazione delle sanzioni sono stati emessi dalla ICA SRL nel corso dell'anno 2013 e del 2014 per il servizio di liquidazione accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 2 a quanto ammonta il totale monetario delle sanzioni elevate per ciascun anno 3 qual è la percentuale di pagamento e di ricorsi inerenti tra le sanzioni sopraccitate 4 se intenzione della giunta aggiornare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed in particolare il suo articolo 17 in modo tale che il suo rispetto sia più agevole da parte dei commercianti firmato a Mara Piccin Assessore Mazzer prego grazie presidente e grazie consigliera per l'interrogazione ci permette un attimino di fare il punto sulla situazione dell'imposta sulla pubblicità la prima io le darò prima una risposta proprio sintetica e di numeri riguardante alle richieste che lei ha fatto poi facciamo alcune considerazioni che non sono di natura tecnica ma di altra natura verbali emessi nel 2013 253 avvisi di accertamento riguardante l'imposta sulla pubblicità permanente non si chiamano verbali si chiamano avvisi di accertamento così divisi 186 riguardanti accertamenti di soli utenti che non avevano versato l'imposta già dichiarata praticamente coloro che a gennaio da gennaio non pagano gli fanno un avviso di accertamento per sollecitare il pagamento ma lì l'impianto era in qualche maniera dichiarato e quindi non c'è un avviso di accertamento per una difformità rispetto a quanto riscontrato è semplicemente che non ricevendo il pagamento si fa un avviso di accertamento per invitare alla riscorsione 67 sono gli avvisi relativi all'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 57 507 del 93 e questi riguardano gli utenti che non hanno preveduto a presentare la dichiarazione prevista quindi che non avevano presentato nessuna dichiarazione e hanno verificato invece gli ispettori che sono all'uopo incaricati di questo compito hanno verificato che ci sono degli impianti che non erano stati dichiarati nel 2013 l'ufficio ha emesso 61 avvisi di accertamento riguardanti la pubblicità temporanea che sono le locandine che ci trovano appese i cartelli in vetrina i cartelli sui cantieri che hanno valenza temporanea e non durano un anno solare ma durano meno durante quest'anno sono stati emessi 456 avvisi di accertamento per la pubblicità permanente divisi in 176 per chi non aveva pagato dall'inizio dell'anno e 280 relativamente a posizioni non corrette come abbiamo visto prima per la pubblicità temporanea invece gli avvisi sono stati 58 ovviamente andiamo a vedere anche negli ultimi dieci anni si può notare come anche negli ultimi dieci anni ci sono degli anni che hanno dei picchi leggermente più levati rispetto alla media normale degli altri anni quindi ci sono degli anni in cui si fanno degli accertamenti un po' più oculati da parte dell'impresa io direi che invece l'opera di accertamento dovrebbe essere costante durante quell'anno in questo senso l'ICA è stata richiamata a mantenere costante invece quelle che sono le vigilanza che deve fare rispetto alla concessione che ha ottenuto allora adesso andiamo dal punto di vista economico imposta permanente già a ruolo e non versata la scadenza sono 75 mila euro per il 2013 imposta permanente messa a ruolo attraverso gli accertamenti sono 26 mila sanzioni per omessa o infedele denuncia sono 25 mila euro di queste sanzioni pagando in tempi ragionevoli c'è un abbattimento e si abbatte un terzo della sanzione sanzioni per ritratto pagamento sono 34 mila euro interessi sono 914 imposta temporanea 16 mila 800 euro sanzioni per omessa dichiarazione 17 mila anche in questo caso si abbatte un terzo sempre per le sanzioni sanzioni per ritratto pagamento 5 mila euro interessi 37 euro 2014 54 mila euro di imposta permanente già a ruolo non versata la scadenza imposta permanente messa a ruolo attraverso gli accertamenti 69 mila euro sanzioni per omessa o infedele denuncia 68 mila euro sempre un terzo di abbattimento per il pagamento in tempi più rapidi sanzioni per ritratto pagamento 5141 interessi 544 imposta temperanea 19 sanzioni per omessa dichiarazione 19 mila sanzioni per ritratto pagamento 5 mila 700 interessi 11 euro per quanto riguarda i pagamenti della pubblicità permanente nel 2013 contro l'emissione dei già descritti 253 avvisi risultano riscossi numero 93 avvisi per un totale di 33 mila euro non riesce a sentire vado più piano allora per quanto riguarda i pagamenti della pubblicità permanente contro l'emissione dei descritti 253 avvisi del 93 del 2013 93 avvisi di riscossione per un totale di 33 mila euro sono stati riscossi 65 su 67 avvisi senza dichiarazione per 26 mila euro 14 mila euro di imposta nella pubblicità temporanea risultano pagati 39 avvisi per una riscossione di 24 mila euro i rimanenti non riscossi ovviamente saranno oggetto di omissione dell'emissione dell'ingiunzione fiscale che si fa in un secondo momento prima si fa l'avviso d'accertamento se all'avviso d'accertamento non c'è una risposta positiva si fa l'ingiunzione fiscale nel 2014 fino ad oggi sono state riscosse su 176 avvisi per mancato pagamento ne sono stati pagati 72 per un totale di 26 mila euro 16 mila di imposta 280 avvisi da violazione ne sono stati pagati 138 il 50% per un totale di 50 mila euro di cui 28 mila di imposta per il pagamento sono dovuti 60 giorni non ancora trascorsi per una buona parte degli avvisi al momento della risposta non erano ancora trascorsi 60 giorni per il pagamento diciamo abbreviato è da ricordare inoltre che le sanzioni sono le minime ed itali cioè noi nel nostro regolamento abbiamo previsto quello che la norma ci consente come sanzione minima il regolamento è stato aggiornato credo nel 2008 2007 2008 in questo consiglio e abbiamo stabilito che che gli importi erano i minimi previsti della legge sotto dei questi non possiamo andare per quanto riguarda i ricorsi sono stati trattati nel 2013 tre ricorsi pervenuti da due aziende a livello nazionale nel 2004 quindi non a livello di imprenditori locali proprio da aziende nazionali perché con loro c'è stato un contenzioso sull'imposta per la pubblicità nel 2014 sono pervenuti al momento due ricorsi e sempre per le stesse aziende che fanno ricorso ogni anno perdendolo e avviando così un contenzioso che per il momento non è ancora arrivato alla suprema corte di Cassazione ma è un tema più a livello nazionale sull'interpretazione della norma che a livello locale il regolamento è stato rivisto con il piano generale degli impianti nel 2008 regolamento comunale approvato con delibera a 339 del 29 dicembre 2008 che ha reso più snelle le procedure per l'istruttoria per la domanda e anche per la risposta che noi dobbiamo dare lo stesso è stato inserito nel sito del comune dove tutti i cittadini ovviamente possono consultarlo sempre siamo anche obbligati per i provvedimenti dell'amministrazione trasparente oltretutto ma comunque lo avevamo fatto anche prima vediamo se c'è qualcos'altro che devo aggiungere no ah sul regolamento i margini che abbiamo dal punto di vista dell'applicazione delle regole sono margini molto limitato perché molto spesso la legge e il codice della strada sono cogenti e impediscono di avere un regolamento che deroghi da queste imposizioni di legge quindi di fatto il regolamento non è altro che l'applicazione della legge sul quale l'impossibile qualche volta è ottenere delle deroghe le considerazioni che facciamo al di là dei numeri è chiaro che l'ICA ha fatto una serie di accertamenti diciamo a tappeto sul territorio hanno fatto molto rumore alcuni di questi di questi accertamenti tra l'altro su alcuni siamo andati a vedere proprio effettivamente anche come sono stati erogati come agito l'impresa la concessionaria e in qualche caso in sede di autotutela siamo riusciti anche a ottenere il ritiro da parte della stessa ditta di quelli che erano le sanzioni che avevano erogato faccio due esempi che sono molto conosciuti uno è quello del famoso maialino della prosciutteria Martin e l'altro è l'insegna dell'osteria ricordami al Gallo non mi veniva in mente l'osteria al Gallo mentre l'altro articolo che aveva fatto molto rumore citava una farmacia ecco non è una cosa di Pordenone è una cosa di Fontana Fredda il tappeto di una farmacia è una cosa di Fontana Fredda abbiamo fatto anche un incontro con le associazioni di categorie sulle quali ci siamo trovati d'accordo sul fatto che noi abbiamo purtroppo delle imposizioni dei limiti regolamentari entro i quali dobbiamo comunque rimanere e l'accordo che abbiamo trovato con loro è che ci fosse come c'è sempre stato in passato perché in passato addirittura l'IC ha fatto dei corsi di informazione presso le associazioni di categorie proprio per informare che c'è questo regolamento come si applica quali sono i limiti quali sono le modalità con cui si può considerare l'insegna come l'insegna relativa all'impresa per capire cosa si fa dentro e quindi non soggetta pubblicità e le altre modalità invece che sono soggette al pagamento dell'imposta della pubblicità l'ICA si è resa disponibile fare ulteriori corsi anche per il prossimo anno per il 2015 e a sensibilizzare per tempo rispetto a coloro che hanno situazioni di questo tipo che bisogna mettersi a posto per tempo altrimenti ci potrebbero essere gli ispettori che in qualche maniera passano e trovano delle situazioni fuori posto e devono emettere obbligatoriamente questi avvisi di accertamento a me interessa soprattutto che si agisca in termini non della ricerca spasmodica di chi ha infranto la legge ma si cerchi di applicare la legge per coloro che continuamente pagano le imposte e magari che si metta sullo stesso piano anche coloro che non lo pagano si invitano a pagare questa è una modalità credo corretta sulla quale però non dobbiamo speculare né noi né la concessionaria per quel che riguarda il tirare per la giacca le norme fino all'inverosimile credo che questo tipo di atteggiamento sia un atteggiamento che paga nei confronti dei commercianti che l'hanno capito anche perché tra di loro c'è chi paga e chi non paga e chi non aveva pagato e quindi è giusto trattarli tutti della stessa maniera è semplicemente un'azione di conoscenza anche presso la situazione di categoria preventiva potrebbe anche aiutarci a dare meno sanzioni ma nello stesso tempo a permettere agli imprenditori di avere la modalità di accesso al servizio e alla possibilità di fare pubblicità nel rispetto delle regole del regolamento grazie grazie assessore prego consigliere Piccini grazie grazie presidente grazie l'assessore per l'articolata risposta che prevede in qualche modo un'altrettanta seppur in termini riassuntivi perché i minuti sono pochi replica allora partiamo dalla fine perché sui numeri mi pare che poco possiamo dire rileviamo comunque che dal 2013 al 2014 passiamo da 253 a 456 ma l'assessore ha ammesso che è stato fatto un controllo a tappeto perché dico partiamo dalla fine perché siamo tutti d'accordo sul fatto che chi non si attiene alle regole debba pagare ma però se l'attività dell'amministrazione in assieme a questa ICA a questo gestore è stato quello di più che fare sanzioni mettere a conoscenza o non si è fatto prima e lo si fa adesso oppure mi viene da pensare male perché se vado a leggere gli atti del comune e la delibera che non so se è ancora attuale o no perché lei mi ha parlato di un aggiornamento del 2008 che io non ho trovato comunque ho stampato quello che c'è in internet per cui è sicuramente aggiornato se leggo la delibera con la quale diamo in concessione credo dal 2003 assessore mi corregga se sbaglio trovo che questa ditta che è una ditta che questa ICA SRL imposte comunali affini che uno dice da dove salta fuori è una ditta di Roma non è qua non è di qua ha sostanzialmente per ogni provincia una sede fa e svolge questo compito per i comuni e si fa pagare il 14% fino ad una certa cifra e oltre a una certa cifra il 20% allora io che sono cattiva e che penso male così ho letto nella delibera mi viene da pensare che questi qua altro che collaborazione con il comune di Pordenone vengono a vessare i nostri commercianti e per un loro interesse proprio e non sono neanche residenti qua e non sono di qua ma ripeto ribadisco sono di Roma qua c'è la visura camerale no fanno passare le multe da 253 a 456 ripeto e ribadisco che concordo con lei che chi non paga e non è in regola deve essere in regola allora questa azione di sensibilizzazione assessore signor sindaco non è stata fatta in questi anni c'è un altro aspetto su quale volevo replicare ed è quello relativo al fatto della semplificazione allora questo regolamento io mi dispiace non me lo ricordo nel 2008 era poco che ero qua probabilmente non avrò neanche capito di che cosa si trattava all'epoca chi lo sa questo regolamento aggiornato del 2008 e come dice lei che pone la semplificazione dice al coma 3 modalità per il rilascio delle autorizzazioni il presente regolamento prevede bla bla in via generale si statuisce che in attesa della stesura del piano generale degli impianti si facciano queste autorizzazioni ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada e a proposito di quello che mi dice lei stampo l'articolo 23 del codice della strada e nulla dice di stringente rispetto ai comuni e degli articoli 48 50 e 51 del regolamento di esecuzione del codice della strada li vado a vedere e l'unica cosa che dicono all'articolo 48 dicono i cartelli le insegne di esercizio gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati e di quello parliamo sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali e fa riferimento ai regolamenti comunali quindi io ho altre normative stringenti alle quali faceva riferimento lei io probabilmente non saprò leggere fino in fondo ma non le trovo per continuare sul tema della semplificazione allora viene chiesto se il mezzo viene collocato cioè il mezzo pubblicitario nel centro urbano viene richiesta dalla domanda in bolo indirizzata al sindaco il bozzetto in duplice coppia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche la documentazione fotografica del luogo l'autocertificazione la planimetria e insomma tutta una serie di documenti che mi pare che di grande sensibilità come dire sburocratizzazione e semplificazione non è allora se è vero che questo regolamento noi lo abbiamo adeguato nel 2008 io penso che visto che ci riempiamo tutti la bocca da una parte e dall'altra che in questi giorni in nome della sburocratizzazione della semplificazione compattiamo i comuni no allora è bene che lo riprendiamo in mano subito e che guardiamo se riusciamo a sfoltire ancora qualcosa e che facciamo un raffronto bello e buono rispetto a quello che alle normative stringenti che diceva lei a livello nazionale perché io di questa cosa non ne sono convinta questo è un regolamento fatto per altri tempi assessore negli anni 90 quando avevamo una sorta di esplosione delle attività commerciali abbiamo una città morente dal punto di vista commerciale ma non solo noi tante altre città si grazie presidente chiudo velocissimamente nel dire e ribadisco adesso veramente abbiamo necessità di semplificare non di non far pagare chi non vuole pagare e siamo d'accordo ma di semplificare la vita ai commercianti grazie grazie consigliere bene abbiamo esaurito la mezz'ora dedicata alle interrogazioni pertanto come da programma di lavori passiamo alle deliberazioni la prima deliberazione è la numero 37 la proposta di deliberazione numero 37 2014 scusate sentenza tribunale di Pordenone giudice del lavoro numero 67 2014 causa dpb comune di Pordenone riconoscimento debito fuori bilancio la parola all'assessore Mazzer prego la prima deliberazione numero 37 2014 si prego la sentenza no? giusto benissimo allora grazie presidente nel 2005 è arrivata con una mobilità dal comune di Roveredo un agente della polizia municipale noi l'abbiamo inquadrata così come ci è stata in qualche maniera trasferita e con gli atti che ci ha trasferito il comune di Roveredo e quindi l'abbiamo inquadrata in PLA1 perché in PLA1 era inquadrata nel comune di Roveredo quando questa gente è venuta qua si è resa conto che i nostri agenti successivamente a seguito di un di un accordo con Areran e Ragione abbiamo transato rispetto a una procedura di primo inquadramento per tutti gli agenti di polizia municipale che erano inquadrati in PLA1 e li abbiamo inquadrati in PLA3 quindi noi avevamo questa situazione anomala di un agente che era inquadrata in una posizione diversa rispetto a tutti gli altri colleghi ma non potevamo che fare così visto che noi abbiamo ricevuto nel 2005 in mobilità dal comune di Roveredo con la storia scritta dell'inquadramento che aveva nel comune di Roveredo perché questo perché il comune di Roveredo non ha accettato questa transazione che noi abbiamo fatto nei confronti di tutti i colleghi vigili nell'inquadramento da PLA1 a PLA3 così come diciamo concordato con l'agenzia per la contrattazione e con la regione a seguito di una dubbia interpretazione su un articolo del contratto di lavoro ovviamente questa persona ha fatto ricorso perché si sentiva trattata diversamente dagli altri colleghi il comune di Roveredo non ha transato quindi noi abbiamo dovuto resistere in solito diciamo con il comune di Roveredo a questo tipo di ricorso e come si sapeva visto che c'erano dei precedenti in altre zone di questa regione il ricorso ovviamente è stato vinto dalla ricorrente e quindi lei giustamente viene inquadrata come tutti gli altri colleghi in PLA3 quindi noi lo possiamo fare solo a seguito di questa di questa sentenza e lo possiamo fare dal 2005 mentre dal 2001 al 2005 lo farà il comune di Roveredo e darà gli arretrati alla gente ricorrente questa sentenza ha generato un costo la differenza di retribuzione tra PLA1 e PLA3 che noi dobbiamo corrispondere a questa persona e i 2000 aspetti che non mi ricordo più quant'era l'importo esatto i 2395 euro sono l'importo che noi dobbiamo riconoscere per gli anni pregressi che riconosciamo con questa delibera ovviamente e che è considerata giustamente un debito fuori bilancio e che noi intendiamo sanare questa sera per le motivazioni che vi ho esposto se uno mi dice potevate farlo prima dico no non potevamo farlo prima perché se l'avessimo fatta avremmo costretto anche il comune di Roveredo ad accettare una soluzione che ha accettato invece solo dopo la sentenza del giudice non potevamo obbligare il comune di Roveredo a farlo diversamente e non potevamo cambiare le carte nell'atto di mobilità inquadrandola in una posizione diversa rispetto a quella con la quale il comune di Roveredo ce l'ha trasferita per chiarimenti se qualcuno non ha capito sì grazie richiesti i chiarimenti prego consigliere Grazie presidente io mi ero iscritto per l'intervento quindi faccio anche prima faccio una richiesta di chiarimento volevo capire col comune di Roveredo assessore non c'è anche proprio con i vigili urbani se non ricordo male una convenzione in forma associata ecco volevo capire visto che se non ho capito male mi dice che il comune di Roveredo non seguiva quell'inquadramento che derivava da quell'insieme di cause che state fatte a livello regionale e noi siamo andati e noi siamo però noi l'abbiamo fatta Roveredo no dopodiché noi non ricordo in che anno mi sembra nel 2008 2009 siamo andati a fare questa convenzione ecco allora il comune di Roveredo ha cambiato successivamente la sua la sua la sua la sua la sua visione chiamiamola così oppure continua a restare fermo e noi continuiamo a fare abbiamo fatto una convenzione con uno che la pensa in maniera diversa allora la convenzione riguarda un servizio che noi adesso gestiamo in forma associata abbiamo un unico comandante che segue l'intero corpo di polizia comunale sia quello che è afferente al comune di Porto Enone sia quello che è dipendente dal comune di Roveredo il comune di Roveredo a suo tempo non ha accettato non ha fatto la transazione che abbiamo fatto noi ha preferito ricorrere cioè resistere al ricorso della dipendente e era legittimo che potesse andare a resistere al ricorso lo ha fatto noi non potevamo fare qualcosa di diverso perché noi di fatto la dipendente l'abbiamo avuta dal 2005 e quando riceviamo la dipendente riceviamo con una patente e se c'è scritto PLA1 dobbiamo inquadrarla in PLA1 perché altrimenti avremmo commesso noi quello che si chiama danno erariale giusto? quando invece il giudice dice no dal 2001 l'ha inquadrata in PLA3 è chiaro che modifichiamo anche noi gli atti nostri nel 2005 noi non riceviamo a seguito della sentenza un PLA1 ma riceviamo un PLA3 e di conseguenza paghiamo l'arretratto per la quale la dipendente ha lavorato in comune a Pordenone giustamente cioè equiparandola a tutti gli altri colleghi semplicemente questo se lei vuole dire ma voi dovevate prevedere dovete fare vabbè lo può dire fa parte del suo compito insomma com'è? gli altri cosa? dal 2005 fino ad oggi altri richiesti chiarimenti prego Assessore mi spiega no richiarimento devi finire richiarimento mi ha fatto adesso ecco ecco allora tutto quello che ha detto io leggendo però il testo del deliberato e forse mi è sfuggito qualcosa perché dal suo intervento mi ha detto brava la dipendente giustamente 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 la dipendente ha fatto questo però poi leggo di precisare che il comune di Pordenone non intende prestare a coscienza la sentenza in argomento e si riserva pertanto ogni valutazione per un'eventuale impugnazione allora se chiertosemente mi spiega questa parte del deliberato con il giustamente la dipendente ha fatto ricorso non potevamo farlo prima avremmo voluto eravamo legati a rovere del piano eccetera quindi il comune di Pordenone si riserva una valutazione oppure la dipendente ha sbagliato è refuso grazie se noi facessimo ricorso questa è una frase di rito che si mette su tutte le su tutte le delibere nelle quali si prende atto di una sentenza la possibilità dell'eventuale ricorso è una fase ricorrente la mettiamo perché è diritto dal punto di vista burocratico e così ma è chiaro che se noi facessimo ricorso è come se in qualche maniera venissimo non meno a tutto quello che abbiamo fatto nei confronti degli altri colleghi suoi e di conseguenza per coerenza per un minimo di coerenza ovviamente noi non faremo ricorso prego consigliere Pedicini sì grazie assessore stavo dicendo prima sempre per chiarimenti io sinceramente sono ignorante non capisco e la prego di farmi capire un poco meglio perché lei ha detto noi non abbiamo accettato di fin dall'inizio di inquadrarla nelle PLA3 perché se no avremmo potuto causare un danno erariale ma potevate ma non lo avete fatto no potevate non l'avete fatto il problema è che il danno erariale mi scusi assessore il danno erariale l'avete causato lo stesso perché mi deve spiegare che cosa sarebbero gli interessi legali della rivalutazione monetaria dovuto al saldo che cos'è è un danno questi interessi legali pagati alla dipendente sto alla sentenza è un danno alla pubblica amministrazione perché è una spesa in più di quella che avreste pagato in realtà il danno erariale l'avete fatto l'avete fatto nel momento in cui avete pagato dovete pagare gli interessi legali della rivalutazione monetaria della dipendente ecco perché non capisco perché lei mi dice non facciamo questo per non causare un danno erariale in realtà causate un danno erariale perché questo debito fuori bilancio è vero che risponde a una sentenza ma mi spiegate come fate a giustificare gli interessi maturati nel frattempo e la rivalutazione monetaria questi come si chiamano non è un danno alla pubblica amministrazione che cos'è no quello non è un danno sì che è un danno grazie del chiarimento vede se per caso non era la fattispezione se il giudice avesse dato ragione all'amministrazione di Roveredo dicendo no la dipendente resta inquadrata in PLA1 e noi l'avessimo pagata dal 2005 in poi in PLA3 noi avremo quello lì sarebbe il danno erarialo che si va bene va bene però però avremo sarà argomento sì sarà argomento di intervento altre richieste di chiarimenti nessuna richiesta pertanto dichiaro aperta la discussione consigliere ripeti prego grazie grazie presidente beh diciamo che mi trovo a intervenire per l'ennesima volta a parlare di una causa una delle tante che vinciamo mi sembra di capire visto che qua abbiamo una vittoria di cause impressionanti stando all'elenco che ci avete dato vinciamo sempre non perdiamo mai ma qua stiamo sempre a discutere sempre di sconfitte assessore Mazzer veniamo a noi vede quello che diceva il collega Pedicini parlando di di danno di danno erariale cagionato francamente pur non essendo d'accordo su come l'ha individuato appieno però non è del tutto sbagliato ve lo dicono gli stessi revisori su parere del collegio dei revisori che è allegato che è in uno che ha gli atti è lo stesso organo di controllo che vi dice attenzione noi è un debito fuori bilancio tutto quello che sappiamo sul tuel la copertura c'è però invita l'amministrazione ad un tempestivo inoltre la procura della sezione regionale della corte dei conti per l'eventuale accertamento di responsabilità del danno erariale dando un'espressa comunicazione a questo collegio con documentazione relativa all'inoltre quindi no no è più è un caldo è un caldo è un tempestivo invito con contestuale trasmissione al collegio per essere certo che lo facciate e questo perché quando ho prima fatto quelle due domande di chiarimenti non le ho fatte a caso chiedo scusa non le ho fatte a caso ossessore perché torniamo a un vecchio adagio che ripeto spesso quando parliamo dei debiti fuori bilancio per le cause quando dico che siete lei dice siamo arrivati nel 2011 nel 2011 non siamo e vi portate dietro un progresso di amministrazione battagliera e volutamente vessatori a mio modo di vedere nei confronti dei cittadini spesso o nei confronti delle proprie controparti più di una volta lei in quest'aula lei o chi l'ha preceduta ma quella volta facevo riferimento anche alla causa Montini c'era venuto a parlare in commissione in quest'aula il privato aveva ragione ma siamo andati in causa e continua a fare anche oggi anche oggi ce l'ha venuto a dire la mia domanda quando ho sottolineato quello che lei ci aveva detto la dipendente ha fatto bene non potevamo fare diversamente non è vero Assessore lei poteva fare diversamente o meglio chi l'ha preceduta si poteva fare diversamente soprattutto si poteva fare se noi avevamo uno storico forse perché città capoluogo forse perché città più grande forse perché abbiamo avuto una visione diversa uno storico proprio in quello specifico settore dei vigili urbani quindi il momento in cui ci mettiamo a parlare col comune di Roveredo e arriva per mobilità questa dipendente della patente della patente come ha detto il giudice ma non c'era bisogno il giudice sa cosa potevate farci e non lo dico per educazione perché qua c'è una voglia c'è una voglia che si ripete che si perpetua sempre contro che noi dobbiamo essere duri e puri tranne poi andare a fare cosa che questo sia il mio modo di vedere perché le spese legali di soccombenza secondo lei se alla corte dei conti arriva la deregistrazione di questa seduta del consiglio comunale dove l'assessore ci viene a dire che si poteva fare benissimo e se la corte dei conti arrivano tutte le transazioni sulle posizioni dei vigili urbani degli altri del comune di Pordenone con quel pregresso secondo voi la corte dei conti 2970 rotti euro delle spese legali a chi le imputa non è un danno erariale questo quello che è il 50% di spese quello che è ecco e qua mi voglio ricorregare mi voglio ricorregare a due delle cose che sono state dette stasera per carità non erano delibere però attengono a questo modo che dimostra questa amministrazione questa sera si è sentito parlare un attimo di attenzione che so che lei sempre no no lo so che lo so che il collega di banco con Ficconi la distratta assessore però questa sera abbiamo sentito parlare in questa aula due interrogazioni le uniche due sono state fatte però sono secondo me esemplificative dell'atteggiamento che anche questa amministrazione ha la prima era quella che riguardava il caso del barista pordenonese che si tolto la vita a seguito di una procedura e la seconda è quella che proprio ma basta ma parlate mettete a seguito della procedura se mi facevi finire senza interrompere capisco che Presidente del futuro Presidente ah no scusate mi stavo distraendo e stavo dicendo non era lui non è stato Salvador d'altronde se sono di spalle perché non parla almeno Tomasello può mettere ah la chiaradia scusa Salvador non c'entri niente tu allora se posso se posso terminare il ragionamento senza stavo dicendo lei prima assessore quando ha risposto all'interrogazione della collega Daniello soprattutto della collega Piccin anche in questo caso non ha ha dato un insieme di numeri e ha dato a mio modo di vedere una giustificazione che l'ha evidenziato correttamente la dottoressa Piccin che si Mara così che fa emergere come c'è una voglia di belligeranza da parte di questa amministrazione ripeto ma proprio velocemente un ucciso che è una cosa che ho toccato personalmente per lavoro proprio sul caso della Tosap che abbiamo affidato alla ICA dei nostri concessionari lei ha fatto l'esempio del maialino e del gallo ma sa che sono andati a chiedere che sono andati a chiedere all'interno di un rivenditore che paga già per la sua bella insegna della propria casa che produce dentro ci sono i quadri sono andati a chiedere di quelli sono andati a chiedere di il tappetino dentro all'interno dei locali e quando parliamo del capire della semplificazione qua mi riferivo al discorso della collega Daniello se intendevo quella tipa di procedura la domanda era a Daniello che era detto una procedura semplificata sono arrivati a elevare una contestazione la ICA è arrivata a contestare ad accertare che cosa una mancata comunicazione al comune dell'imposta quando al comune quel contribuente ha fatto la richiesta caro comune mi puoi concedere posso mettere questa tabella risposta del comune sì sotto c'è scritto bisogna mandandola anche alla ICA bisogna comunicare alla ICA la ICA stessa riceve perché il contribuente non manda una comunicazione alla ICA che già conosce dopo che ha chiesto al comune l'autorizzazione la ICA la viene a sanzionare ma allora questo all'interno di un percorso più completo è una semplificazione o no? è un'amministrazione che può dare delle direttive ai propri concessionari o no? sempre agendo all'interno del quadro della legalità perché io concordo con quello che ho detto alla consigliera prima chi non paga è giusto che venga sanzionato ma chi non paga ci vuole buon senso rispetto a tutte le cose credo che fosse prima il discorso del sindaco quando nel rispondo all'interrogazione della consigliera Daniello volesse arrivare a quello allora tornando a bomba sulla delibera che ci occupa ecco io credo che l'amministrazione ancora una volta abbia dato prova di essere assolutamente un'amministrazione priva di senso belligerante belligerante priva di senso perché nel momento in cui l'assessore mi va a dirmi che la gente aveva ragione ma di cosa stiamo discutendo ecco e con questo modo di fare lo ripeto provocate anche dei danni quindi ci credo che vi erano convenute dovete andare a giudice per avere ragione gli dite gli dite hai ragione ma non ti pago ha ragione convenirmi in giudizio ma è normale ma funziona così funziona a casa mia lo so che siete convenuti ma perché non avete pagato quello che dovete dare non avete riconosciuto quello che è sacro santo e legittimo mi sembra che sia lampante la cosa quindi caro assessore non so cosa volesse portare all'interno di questo consiglio se voleva avrà il placido e bene placido della sua amministrazione è un debito è l'ennesimo è l'ennesimo riconoscimento di un comportamento vessatorio dell'amministrazione questa volta perpetrato nei confronti di un agente a monopozia grazie 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 non vedo nessun altro iscritto pertanto è chiuso il primo intervento si passa al secondo intervento nessuno iscritto dichiaro chiusa la discussione do la parola all'amministrazione per eventuali repliche Assessore ci sono ci sono eventuali repliche prego scusate non è che voglio replicare io capisco ed è giusto insomma che l'opposizione cerchi di sollevare ogni piccolo difetto ogni piccolo in questo caso mi sento di dire che proprio non potevamo fare diversamente io credo assolvo i dipendenti e assolvo l'amministrazione di allora che ha dovuto ha proposto l'amministrazione al comune di Roveredo se noi transiamo transate anche voi ma se l'amministrazione non ha voluto transare noi non potevamo obbligarla potevamo solo convincerla ma non obbligarla lei dice potevate farle lo stesso d'ufficio prendervi la responsabilità è legittimo che lei mi dica questo che mi dica che bisogna anche forzare dal punto di vista burocratico ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno comunque negli atti amministrativi che si compino di avere un visto di legittimità da parte di chi le leggi le conosce forse meglio di noi e se non riusciamo ad averlo è chiaro che insomma forse qualche volta hanno bisogno anche hanno ragione anche coloro che ci consigliano di seguire una certa procedura qualche volta è meglio che seguiamo anche i segretari comunali i direttori generali i dirigenti che ci consigliano di agire in un certo modo e per quel che riguarda le cause è chiaro che lei consigliere lei non vede le cause che abbiamo vinto lei qua in consiglio ovviamente vede solo quelle che abbiamo perso e lei si fa un'opinione sulla base di quello che vede ma giustamente se lei vede tutte le cause perse perché le portiamo qua come debito pure bilancio ma quelle che vinciamo non passano per il consiglio comunale di conseguenza magari per rendere merito anche al nostro servizio di avvocatura qualcuna ne vincono e forse i risultati ci sono in questo periodo è chiaro che qualche volta siamo costretti noi non vorremmo mai arrivare io credo che quando la politica finisce in tribunale finisce il suo ruolo e quindi è meglio che si fermi prima ci sono grazie assessore bene passiamo alle dichiarazioni di voto consigliere Ribetti prego guardi sarà una dichiarazione di voto telegrafica solo perché mi ero dimenticato prima nell'enfasi e me l'ha ricordato l'assessore adesso parlando di Roveredo e ci siete andati a fare anche la convenzione successivamente spero che almeno abbia rivisto le proprie posizioni ma è proprio guardi io capisco che lei abbia voluto chiaramente il gioco delle parti è anche questo ma io credo che il gioco delle parti debba fermarsi davanti all'interesse dei cittadini e quello ve l'ho detto mille volte deve fermarsi ma non posso avere l'assessore della mia giunta che mi viene a dire aveva ragione ma se abbiamo resistito siamo andati avanti perché non potevamo fare altrimenti ve l'ha detto chiaramente un giudice ma non ci vuole un giudice per dirvelo se avete già fatta la trassazione con tutti gli altri fatela anche con questo perché era chiaro che andavate a soccombere e poi mi scusi assessore io capisco le clausole di stile quello che vuole però ripeto iniziamo a non parlare più in termini politici la gente non lo capisce se lei mi dice che ha ragione cosa mi mette il punto 3 della delibera del deliberato dove dice che vi riservate perché dovete cosa dovete valutare avete sprecato inchiostro e carta avete fatto un altro danno erariale per questo motivo voterò contro grazie silenzio grazie nessun altro iscritto per le dichiarazioni di voto dichiaro chiusa le dichiarazioni di voto e passiamo alle operazioni di votazione pongo in votazione la proposta di deliberazione avente per oggetto proposta numero 37 2014 sentenza tribunale di Pordenone giudice del lavoro numero 67 2014 causa dpb contro comune di Pordenone riconoscimento debito fuori bilancio dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito alla votazione è seguente presenti 36 votanti 35 maggioranza 18 favorevoli 23 contrari 5 astenuti 7 la delibera è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito le esito la votazione seguente presenti 36 votanti 35 maggioranza 18 favorevole 23 contrari 5 astenuti 7 comunico che l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo passiamo ora alle proposte deliberazioni 38 e 39 che verranno discusse assieme e presentate ovviamente assieme proposte deliberazione numero 38 2014 assestamento finale di bilancio e contestuale aggiornamento dei documenti programmazione proposte deliberazione numero 39 2014 ratifica delibera di giunta comunale numero 119 del 31 ottobre 2014 avente ad oggetto variazione di bilancio per spese correnti do la parola al sessore Mazzer prego sessore grazie presidente l'anno prossimo noi avremo una nuova normativa sulla contabilità delle autonomie locali ed è una normativa che anche dal punto di vista culturale ci faranno cambiare anche i modi dell'operare dei servizi e degli uffici che fino adesso abbiamo utilizzato perché non basterà più impegnare le spese cioè prenotare diciamo rispetto ai capitolini di bilancio le spese ma dovremmo essere capaci di programmare anche gli interventi e la liquidazione delle spese negli anni di competenza questo deve far maturare in noi un grado di programmazione sempre più perfezionato nel tempo tra l'altro non si potranno più scrivere a bilancio entrate che poi non si concretizzano per cui ci sarà un aumento almeno di quattro volte di quelli che sono i fondi che oggi accantoniamo per la svalutazione crediti noi oggi abbiamo circa 400 mila euro prossimo anno ragioniamo su un milione e sei con il bilancio 2015 voi capite ci sono altre risorse che noi sono costretti ad accantonare ma il legislatore lo fa soprattutto perché questo tipo di certezze di sicurezza impediscono i default dei comuni impediscono di spendere dei soldi che poi non sono non corrispondano a relative entrate quindi si agisce anche dal punto di vista della virtuosità dell'ente e si impostano delle sicurezze che non consentano poi di avere degli sforamenti di bilancio dei debiti fuori bilancio che non si possono recuperare se non aumentando le tasse come si sta facendo nei comuni che hanno avuto questo default anche in questi anni io credo che queste buone pratiche abbiamo cominciato ad applicarle anche nel 2014 e lo si vede lo si vede da questo assestamento e nella maggior responsabilità che ci siamo dati nella programmazione della spesa l'assestamento finale ne è la testimonianza perché le variazioni sono variazioni abbastanza relative marginali rispetto agli importi di provvisione di bilancio che avevamo fatto all'inizio come abbiamo proceduto per questo assestamento finale di bilancio abbiamo impostato un metodo che è forse un po' diverso dagli altri anni prima abbiamo cercato di fare come si fa nelle famiglie prima abbiamo fatto tutta una verifica sulle maggiori e minori entrate maggiori e minori entrate per verificare qual era l'andamento delle entrate su quanto potevamo contare a fine anno indipendentemente dal conto consultivo che approveremo ad aprile dell'anno prossimo abbiamo visto per esempio che ci sono stati minori trasferimenti quindi minori entrate da parte della regione per 200 o 2.000 euro di questi che sembrano già una cifra importante ben 173.000 sono addebitabili al fatto che non c'è più il bonus bebè noi all'inizio dell'anno avevamo il bonus bebè 173.000 in entrata previsti questi non ci sono più e di conseguenza di questi 202.000 sono attribuibili in gran parte proprio a questa voce di trasferimento regionale che non c'è sarà più e questo è solo per il servizio sociale anche l'ambito ha avuto un calo di entrate ma molto relativo rispetto al quanto un complessivo delle entrate che registra in un anno per 18.000 euro per tutto il resto dei settori e gli altri settori abbiamo avuto minori entrate per 22.000 euro e maggiori entrate che siamo riusciti a registrare in particolare anche per contributi che registriamo solo adesso negli appositi capitoli di bilancio per 82.000 per esempio per quel che riguarda l'ambito questi 18.000 di entrata in meno 84 sono un trasferimento regionale in più che ci arriva dallo Stato e 95 sono quanto noi restituiamo ai comuni dell'ambito 95.000 euro rispetto alle minori spese che a Roveredu Cordenons Sanquirino e Porcia si sono registrate quindi la differenza tra 84 in più che registriamo in entrata e 95 in meno di spesa da 18.000 euro di minori entrate per gli altri settori le minori entrate sono attribuibili a proprio parziali correzioni ad esempio sono minori rimborsi per le convenzioni che facciamo sul controllo di gestione in totale lo stanziamento era di 74.000 euro c'è stato un ritardo nel rimborso nella convenzione con il comune di San Daniele che ci fa spostare l'entrata all'anno successivo quindi ci saranno 9.000 euro in meno quest'anno e 9.000 euro in più l'anno successivo e quindi lo stanziamento definitivo cavalo di 9.000 i più significativi altri sono meno 5.500 euro minori introiti per la gestione associata delle risorse umane del da parte dell'INAIL abbiamo avuto uno stanziamento che prevede un'entrata minore rispetto alla previsione minore entrate anche per quel che riguarda minore entrate derivanti dallo spostamento della mediateca di Cinema Zero in nuovi locali in corso dell'anno strutture culturali meno 2.800 euro minori entrate da sponsorizzazioni che non si sono registrate minori trasferimenti provinciali nei due centri di aggregazione dei servizi sociali del progetto giovani altre minori entrate ma diciamo che più o meno sono questi sono altri 2.000 euro di una sponsorizzazione di Friul Ovest Banca 2.600 euro per rimborsi diversi del corpo intercomunale di polizia municipale 6.000 euro maggiori trasferimenti regionali nella tutela ambientale il totale di questo da quel meno 22 in entrata più 82 in meno 22 di minori entrate e più 82 di maggiori entrate ad esempio 26.000 euro sono contributi per le attività museali che abbiamo ricevuto altri maggiori sponsorizzazioni dalla coppia per altri 11.000 euro 7.000 euro per maggiori entrate da sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali ordinanze sindacali sono le sanzioni che danno gli ispettori ambientali quelli che moltano sui rifiuti sul rato conferimento dei rifiuti quindi sono molto marginali rispetto alle previsioni di entrata una volta che abbiamo assestato le entrate abbiamo fatto una valutazione sulle minori spese e minori spese abbiamo cominciato a valutare entro la fine dell'anno quali sarebbero state le risorse che spendevamo in meno ecco nel tra il sociale l'ambito e il resto dei settori noi abbiamo limato 153.000 euro 153.000 euro quasi difficili da riassumere perché qua si tratta proprio di 2.000 euro da una parte 1.500 dall'altra sono proprio ritocchi al bilancio per ogni per ogni per ogni capitolo di spesa di uscita se volete poi vi darò anche una distinta sulle minori spese che abbiamo avuto le più significative 27.000 euro di minore spesa per genere alimentari per la fornitura di derrate 12.000 euro per contributi a favore della scuola dell'infanzia come da convenzione in essere per diminuzione del numero di bambini iscritti 6.000 euro minori spese per fornitura pasti 4.000 minori spese per incarichi professionali del consiglio comunale dei ragazzi 3.500 euro per competenze fisse del personale casa serena quindi più si scende più praticamente le somme che abbiamo tolto dai capitoli si sono vengono sempre minori su previsioni di entrata che erano per esempio per la fornitura delle riflessioni scolastici erano un milione di euro quindi sbagliare di 6.000 euro su un milione insomma credo che sia un errore comunque marginale di fatto abbiamo recuperato questo tesoretto diciamo un tesoretto di 153.000 euro e solo a quel punto abbiamo valutato come investire questi soldi se ci fosse stata una reale necessità una emergenza e e abbiamo anche provato provato ad anticipare somme che avremmo dovuto prevedere l'anno successivo quindi avendo risorse in più abbiamo detto possiamo anticipare delle spese che farebbero se no carico il 2015 e quindi facilitano quello che è il pareggio di bilancio dell'anno successivo e di fatto abbiamo fatto questa operazione andando a utilizzare alcune risorse in particolare vi dico le principali per esempio 40.000 euro spese per riparazione linee elettriche e illuminazione pubblica di impianti la spiego questa voce c'è stato un fulmine che ha creato un danno nell'impianto di illuminazione a nord della città nella zona comuna tra l'altro erano impianti appena realizzati che sono stati realizzati da poco abbiamo ovviamente l'assicurazione abbiamo ritenuto che l'incasso dell'assicurazione diciamo del premio assicurativo farà il suo corso e li otterremo nell'anno 2015 ma già da adesso anche per intervenire tempestivamente sul fatto che c'era un problema di illuminazione pubblica già da adesso facciamo l'intervento di 40.000 euro nella zona di via Roveredo questo intervento di fatto è un'anticipazione di risorse che poi entreranno il prossimo anno altre risorse sono 26.000 euro per prestazioni di servizi maggiorazione di contributo di 28.000 per musei e spazi dispositivi anche qua è una maggiore spesa che però fa carico a un contributo che abbiamo di entrata di 28.000 euro quindi 26.000 euro va per maggiore spesa di prestazioni di servizi di musei e 2.000 euro da un'altra parte su investimenti mi pare abbiamo messo a bilancio una maggiore spesa di energia elettrica e scuole materne di Villanova perché ancora di quella scuola abbiamo ricevuto soltanto degli acconti marginali quindi una previsione di spesa sulle future bellette che arriveranno credo che sia una prudenza virtuosa maggiori spese per incarichi professionali il certificato prevenzione incendi i lavori pubblici anche qua abbiamo anticipato una serie di interventi che volevamo fare per il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi degli anni prossimi sugli stabili e quindi anticipiamo 15.000 euro 11.000 invece maggiori spese per 10.000 per vestiario e divise quindi della polizia municipale già a settembre avevamo aumentato la dotazione di bilancio per comprare le divise che sono previste dai regolamenti comunali per la dotazione dei vigili abbiamo ulteriormente aumentato questo capitolo perché così il prossimo anno non compreremo niente quindi già soddisfiamo tutte le esigenze con il bilancio in corso e maggiori spese per manutenzione automezzi maggiori spese per impianti antincendio presso i musei di manutenzione maggiori spese per trasferimento e realizzazione di un progetto in scuola di infanzia a Santa Lucia maggiori spese per tutta una serie di interventi che riusciamo anticipare e quindi già spendere entro fine anno questa operazione ci consente quindi di intanto assestare il bilancio rispetto alle precisioni che avevano fatto a settembre che si modificano in maniera molto parziale ma ci consentono poi di anticipare quelli che saranno i ragionamenti sul bilancio 2015 che saranno dei ragionamenti anche difficili lo preannuncio sì che dal punto di vista ordinario la ragione la regione ci consente di avere gli stessi trasferimenti che abbiamo avuto nel 2014 all'inizio del 2014 ma non ci considera più quell'avanzo di amministrazione non ce lo considera perlomeno all'inizio che noi abbiamo ottenuto a luglio e che ci ha permesso di liberare alcune spese che avevamo congelato con il bilancio dell'inizio dell'anno anche per quest'anno ci sarà questo problema se non riusciamo a ottenere con la regione un trattamento diverso che quindi ci liberi da subito quelle risorse vi dicevo del problema del del minore del minore delle maggiori somme che dobbiamo mettere a disposizione del fondo svalutazione crediti che viene triplicato rispetto agli anni prima e quindi anche lì sono risorse che dobbiamo accantonare e che ci mettono in difficoltà ovviamente per la quadratura di tutto il resto del bilancio e delle spese ultima cosa il prossimo anno probabilmente avremo anche minori entrate dalle partecipate nella suddivisione dei dividendi voi sapete che c'è la gara ATAP che farà mantenere un atteggiamento più prudente all'azienda per quel che riguarda i trasferimenti e sulle altre partecipate ovviamente non ci saranno molti margini perché i contratti di servizio sono già limati fino all'osso quindi l'assestamento ci permette di chiudere in maniera molto positiva quest'anno vorrei che il prossimo anno fosse molto simile ma ho paura che sarà un po' diverso e quindi ci toccherà fare delle scelte ancora diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto nel 2014 ma siamo pronti anche a questo tipo di intervento con l'obiettivo anche di trovare qualche risorsa per calare quelle che sono le pressioni tributarie magari puntando più sulla tassa rifiuti che si chiama Tari adesso che sulle altre imposte che rispetto agli altri copoluoghi e agli altri comuni noi abbiamo già ridotte che ci vedono tra i più bassi comuni ad applicarle grazie c'è anche la variazione di bilancio grazie consigliere Salvador allora la variazione di bilancio intanto noi l'abbiamo adottata di giunta per far fronte a una spesa non prevista per un aumento del numero di minori non accompagnati alle quali dobbiamo fornire ovviamente l'assistenza prevista dalla norma per questo fondo c'è un aiuto per l'accoglienza ai minori che ci dà anche lo Stato una parte ce lo dà anche la ragione una parte utilizziamo il 5 per 1000 dell'IRPEF e abbiamo recuperato anche 5000 euro di economie dal capitolo di Casa Serena in totale sono una variazione complessiva di 54 non mi ricordo più 54.485 euro finanziate come vi avevo appena illustrato c'è una parte lo Stato una parte la Regione e una parte il Comune mi pare che siano 11 minori non accompagnati in più che abbiamo rispetto a quanto preventivavamo all'inizio dell'anno e questa ovviamente è la ratifica della delibera della Giunta Comunale numero 199 un'ultima cosa mi ricorda l'assessore Zille c'è anche una proposta di emendamento che noi facciamo questa sera qualcosa avevo anticipato anche in commissione oggi credo che la possiamo mettere a disposizione chiedo se è a disposizione la proposta di emendamento di tutti i consiglieri sì sono l'acquisto di 10 telecamere per 20.000 euro in sostituzione di quelle più obsolete e non idonee alla ripresa all'invio di immagini in condizioni atmosferiche e di luce stressate significa che le più vecchie telecamere che abbiamo in dotazione le prime che abbiamo installato non sono non hanno una tecnologia che ci consente di vedere molto precisamente quando c'è un po' di buio erano del 2005 mi suggerisce l'assessore quindi il fatto di poterle sostituire significa dotare quelle zone di telecamere che possono vedere anche in condizioni di luce più bassa e con una definizione molto più elevata per inquadrare proprio le persone e poterle anche riconoscere per quel che riguarda sempre questa proposta di emendamento sempre nella parte investimenti ci sarà anche l'acquisto di un server sempre per il sistema delle telecamere che sarà necessario per realizzare per permetterci una struttura di backup necessaria a rendere completamente libera la memoria e lo spazio dei dati nelle unità dedicata al ricevimento e elaborazione delle immagini quindi significa avere più spazio negli attuali serve per quel che riguarda la registrazione e fare i backup su un'unità diversa che andiamo ad acquistare le ultime due sono un intervento sempre di investimento quindi titolo secondo per lo spillamento da via nuova di corva di una linea di fibra ottica che andrà a servire Villa Cattaneo e quindi a permettere anche lì di avere una possibilità di utilizzo di computer che abbiano una trasmissione molto più veloce che con altre condizioni infine abbiamo 3.000 euro di risorse che vengono staziate sulla parte invece corrente per la rassegna natale in città credo che l'assessore Cataruzza in concertazione con sviluppo territorio e con i commercianti abbia trovato una soluzione di mediazione rispetto alle spese che sono da sostenere e le possibilità che i commercianti mettevano a disposizione quindi abbiamo messo un ulteriore contributo per fare sì che ci siano tutta una serie di attività per Natale in accordo con l'associazione dei commercianti che ci permettano appunto di rendere più attrattivo il centro della città grazie sessore terminato grazie richieste di chiarimenti signori nessuna richiesta pertanto dichiaro aperta la discussione vi ricordo che la discussione è unica sulle due proposte di deliberazione nessuno iscritto passiamo pertanto al secondo intervento nessuno iscritto dichiaro chiusa la discussione immagino non ci sia una replica a parte l'amministrazione perciò passiamo alle dichiarazioni di voto dichiarazioni di voto per ognuna delle deliberazioni delle proposte di deliberazione bene pertanto dichiaro aperte le dichiarazioni di voto per la proposta di deliberazione numero 38 assestamento finale di bilancio nessun iscritto consigliere salvador prego brevemente perché credo di avere 5 minuti per le dichiarazioni di voto vero? 5 minuti sì allora come come lista civica il fiume non abbiamo come dire assolutamente nulla ridire per quanto riguarda la gestione dell'impiatto finanziario del bilancio di questa amministrazione come l'abbiamo già anche ricordato durante le varie variazioni e gli equilibri e durante anche la discussione di previsione è vero avete avete iniziato con questo bilancio di previsione a fare ciò che era stato richiesto da questa maggioranza avere una ristrutturazione della spesa lo è stata fatta avete anche gestito molto bene per quanto riguarda la nostra opinione anche gli spazi finanziari che il patto di stabilità vi apriva è stata un'altra mia organizzazione sotto questo aspetto sia da parte dell'assessore Mazza e dei suoi uffici e su questo bisogna darle merito e mi pare che l'impronta del prossimo bilancio di previsione avrà un'altrettanta se non migliore organizzazione dalle sue parole è un bilancio di previsione che andrà se non ho capito male dalle sue parole di qualche giorno fa andrà discusso a gennaio a gennaio comunque a gennaio mi sembrava che fosse l'idea l'idea sua facciamo gennaio anche comunque la stessa anche redistribuzione degli spazi comunali per quanto riguarda gli uffici che sta seguendo anche insieme al nostro assessore Flavio Molo ritroviamo che sarà uno degli elementi più importanti per il futuro per liberare proprio le risorse e non da ultimo anche per quanto riguarda invece quell'operazione che si sta cercando di portare avanti delle case di riposo quindi l'aggregazione l'unione delle case di riposo con una ricerca anche con una ricerca anche di queste di una certa autonomia nel piano economico di gestione di se stesse ecco quindi nulla da dire su quanto riguarda l'assestamento di bilancio vorrei dire solo qualche parola come tradizione visto che è l'ultima occasione in cui parleremo di bilancio prima del previsionale per quanto riguarda appunto il bilancio di previsione ora semplicemente questo noi crediamo insomma che lo chiedo come spunto come riflessione per questa amministrazione per questa maggioranza il fiume crede che alcuni elementi di ragionamento sul prossimo bilancio siano da fare crediamo che come dire l'elemento uno degli elementi fondanti sul quale poi operare in termini di spesa anche siano quelli relativi a un concetto che poi è un concetto più politico che altro che già il nostro collega Gianni Franchino aveva espresso qualche consiglio fare nel termine di sicurezza ma non in sicurezza solo esclusivamente relativa a quella della difesa della persona oppure della proprietà ma è una sicurezza legata al come dire ai legami sociali che noi siamo responsabili di dover gestire per questa comunità e allora farò anche molto veloce visto che poi i minuti mi rimangano chiedo insomma che questa amministrazione e questa maggioranza nelle prossime settimane nei prossimi mesi insomma dipende di quando cominceremo a imbastirlo cominci a ragionare su alcuni provvedimenti che portino a questa questa ricerca di sviluppo dei legami sociali che pare che in questa città possano possono cominciare a sgretolarsi un po' sotto a tensioni che sono di tipo economico dovuti a un impoverimento che chiaramente non è dovuto a nessun tipo di influenza o responsabilità da parte di questa amministrazione ma provengono da situazioni che chiaramente un'amministrazione locale non ha strumenti per reagire è vero però che alcune cose si possono fare si possono fare e crediamo che insomma la tradizione di questa amministrazione che fa parte del DNA che ha sempre costruito nei legami sociali una delle fonti delle proprie politiche sia appunto quella di sviluppare alcuni 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 processi e uno di quelli potrebbe essere ripeto credo che come dire lo sviluppo anche delle attività economiche le comunità economiche di prossimità alcune per esempio stavo riflettendo con i miei colleghi anche alcune attività attività esercizi commerciali come l'Osteria Mingot che si è sviluppata adesso ad ora e ha creato l'altro giorno un quartiere che francamente aveva perso un po' come dire la capacità anche di relazionare fra se stessi fra gli abitanti che non fosse un quartiere dormitorio ho visto una certa capacità anche tra le persone di ritrovarsi io credo che insomma questa amministrazione possa prevedere attraverso i suoi provvedimenti il poter sviluppare queste attività di prossimità ma anche attività di quartiere crediamo poi anche che le stesse le stesse attività che le associazioni fanno devono essere incentivate e la nostra grande tradizione è quella di sviluppare le attività associative che creano quell'humus poi di legame sociale tra le persone credo anche come fiume e giuro che mi taccio e chiedo scusa la velocità con la quale mi esprimo ma mi sono reso conto che 5 minuti sono troppo pochi in effetti che come fiume anche vorremmo proporre nei prossimi settimane anche l'adozione di un regolamento che è stato già adottato dal Comune di Bologna che è per la gestione dei beni comuni sostanza il Comune di Bologna ha messo a disposizione anche di altre amministrazioni un regolamento che serve a far sì che un'amministrazione si predispone nei confronti di chiunque della propria comunità associazioni ma anche privati o gruppo di privati che non sono ancora associazione per la gestione dei beni comuni questo chiaramente se si vuole adottare questo tipo di strumento che a nostro avviso è importantissimo anche in termini di sussiderietà poi per sviluppare i legami sociali che servono a far sì che questa comunità non si sciolga di fronte alle tensioni che si aprono dovute alla crisi crediamo che dentro a un bilancio di previsione siano anche previsti dalle spese per poter sostenere questo tipo di iniziative ecco chiudo mi viene in mente anche un altro suggerimento che il nostro collega Giannelli aveva che sono cecce sì non era stupida l'idea quella del quello suggerimento che hai fatto sui giornali per quanto riguarda la sala prove per i ragazzi giusto se non sbaglio ecco adesso non conosco bene la sua proposta nei dettagli però tutto ciò che fa questo tipo di operazione tutto ciò che permette anche di inquadrare gli individui di una comunità all'interno se posso scusate tutti questi provvedimenti che servono a sviluppare questo senso di comunità questo legamo sociale che a nostro avviso questa città non può permettersi di perdere perché quello che perché riguardano proprio la sicurezza perché la sicurezza non deriva soltanto come dire della difesa della persona che è sacrosanto della proprietà ma è anche quella capacità come dire di essere bene pubblico una sicurezza che è anche bene pubblico e pertanto una comunità deve essere tutelata attraverso i processi che un'amministrazione pubblica deve fare attraverso soluzioni chiudo dicendo semplicemente che approviamo siamo favorevoli sia alla proposta delle variazioni sia alla proposta di assestamento adesso non so qual era l'ordine grazie grazie prego grazie presidente grazie signor sindaco con gli ultimi due atti che ci ha esposto oggi l'assessore mazzer si in discussione che ci ha messo in discussione messo in discussione rappresentano si può dire il percorso giuridico e contabile dell'ente si conclude e questo è un percorso che è avuto inizio nel mese di marzo ecco volevo anche ribadire questo quindi io non mi soffermo come ha già detto il collega Salvador neanche io non voglio soffermarmi su quanto da lei proposto perché ne abbiamo discusso e glielo garantisco ne abbiamo discusso all'interno del gruppo i due provvedimenti li conosciamo molto bene ok li conosciamo molto bene e sin da ora le dico che noi li approviamo totalmente e anche facciamo nostro anche qui l'emendamento anche il nostro il voto favorevole all'emendamento mi soffermerei per fare delle considerazioni relativamente al bilancio che è stato approvato diciamo che anche quest'anno il bilancio del 2014 quello che abbiamo approvato nel mese di marzo in questo bilancio è stato richiesto uno sforzo enorme anche agli enti locali è stato richiesto uno sforzo enorme in quanto c'è stato un notevole taglio della spesa della spesa pubblica questo ha ridotto quindi il nostro comune ha operato in condizioni di estrema difficoltà che a mio parere non hanno consentito quella autonomia e libertà che avremmo voluto e che la nostra costituzione riconosce in particolare ai comuni ai comuni rispetto appunto analizzando il bilancio rispetto agli anni precedenti noi sono mancati dei trasferimenti importanti quasi 6 milioni e 600 mila euro che poi si sono appesantiti dal vincolo del patto di stabilità interna e poi anche da una previsione di ulteriori anche di entrate minori mi sembra se non sbaglio non mi riguarda anche i dividendi i dividendi ATAP però su quello che mi vorrei soffermare sul patto di stabilità e sì è vero ha limitato notevolmente l'attività degli enti in particolare per quanto riguarda la materia per quanto riguarda il settore degli investimenti però signor sindaco assessor signor assessore io ritengo che però forse dove essere gestito in modo diverso il cosiddetto patto di stabilità cioè gli spazi finanziari dovevano essere gestiti in modo diverso cioè dovevano essere di più spalmati per consentire non so se sono chiaro perché per consentire per così dare la possibilità di poter intraprendere anche nuovi investimenti invece di concentrarli in pochi investimenti quindi un'indicazione da parte del mio gruppo da parte mia non so se il mio gruppo vorrà fare vorrà far proprio è quello anche di rivedere un attimino la gestione degli spazi finanziari all'interno del patto di stabilità poi vorrei far presente anche sempre con riferimento alla manovra al bilancio 2014 che una cosa importante è che non ci sono stati aumenti di tasse per i cittadini anzi la stessa ai suoi rifiuti è stata una tassa meno pesante e la tasi è soltanto stata si può dire pagata solo dai proprietari anche perché buona parte degli inquilini non l'ha pagata infatti bisogna precisare prima di tutto che la tasi è stata legata alla necessità di questa amministrazione di dover recuperare quei 6,6 milioni di euro che sono venuti da meno a causa del fatto che non sono stati trasferiti i tributi previsti per l'IC prima a casa quindi questa amministrazione non ha voluto e cercato un euro in più non poteva non avete fatto bene a non tagliare ancora perché se no si sarebbero colpiti duramente i servizi quindi è stata recuperata questa cifra questi 6,6 milioni sono stati recuperati con la tasse un'altra importante cosa che è stata fatta è il fatto che abbiamo approvato presto il bilancio e cioè già nel mese di marzo in questo si è resa più agevole così l'operatività anche dell'ente del comune questo bene speriamo che mi auguro che quest'anno veni ancora prima poi per quanto riguarda l'IMU importante è stata l'indicazione accolta da questa maggioranza da parte di tutta la maggioranza in particolare il Partito Democratico vivo il Pordenone ma diciamo da tutta la maggioranza sulla possibilità di poter detassare la seconda casa concesso e incomodato gratuito ai figli ottima ottima scelta inoltre abbiamo mantenuto per la seconda casa per quanto riguarda la percentuale che è la più bassa tra tutti i capoluoghi di provincia per la Tasi il comune come dicevo prima ha cercato di lavorare sulle detrazioni infatti di fatto gli inquilini non hanno pagato nulla questo dobbiamo ricordarlo a meno che si tratta di coloro che vivono in ville o case o superattici o superattici per quanto riguarda la Tasi su questo vorrei che si è speso molto l'assessore Conficoni e vi è stata quindi la novità più importante qui l'amministrazione ha ridotto fortemente il tributo la nuova tassa sui rifiuti infatti ha pesato meno per gran parte della famiglia e delle attività commerciali tra le misure che sono state adottate importanti e sono quelle che abbiamo consentito ai commercianti o coloro o i soggetti che hanno subito o le categorie più debili che hanno subito un rincaro maggiore di poter rateizzare la Tasi del 2013 e poi la costituzione di un fondo di solidarietà di 250.000 euro e su questo io personalmente ma penso anche il mio gruppo chiediamo che queste misure siano confermate con il bilancio del 2014 sono misure importanti che servono che danno una mano a queste categorie che in questo momento si trovano in grave crisi sono misure che noi ne chiediamo signor sindaco assessore noi chiediamo che le vengano riconfermate poi per quanto riguarda gli spazi contenitori siamo a 6 minuti si finisco immediatamente una cosa voglio dire che non mi sono molto chiare le scelte che sono state fatte da questa amministrazione abbiamo più volte chiesto da questi banchi volevo ricordare gli interventi fatti dal consigliere Gregorio Martino che più volte ha rappresentato e ha fatto delle proposte relativamente anche relativamente anche all'ex biblioteca perché io non trovo d'accordo la scorsa settimana è stata data una risposta una risposta in una scusi la scorsa settimana qui è stata data una risposta ad un'interrogazione che a me non è piaciuta per nulla non è piaciuta per nulla perché aducendo che non era possibile ristrutturare l'ex biblioteca perché se no il ministero di grazia e giustizia non ci avrebbe molto volmente restituito me lo dice sempre anche l'assessore Mazzaro che non ci avrebbe non ci restituisce i soldi per l'imborso io ritengo che invece che concedere quello spazio ai giudici di pace ad esempio alla giustizia non solo darebbe un senso anche alla piazza della Motta che oggi secondo me è solo un parcheggio ma dovrebbe essere considerato semmai non un costo ma un investimento per ottimizzare il servizio della giustizia di prossimità che avrebbe come conseguenza di rendere più competitivo la nostra città anche la nostra provincia questo concretamente potrebbe essere fatto così potrebbe essere un'iniziativa concreta a favore del lavoro perché rendere più competitiva la giustizia del nostro territorio sicuramente fa bene anche alla crisi economica poi ribadisco per quanto riguarda il bilancio del 2015 chiarisco con quanto confermo quanto detto che sarà che dovremo mettere mano alla struttura dei servizi per impostare nuove soluzioni e alternative altrimenti non sarà più possibile reggere l'urto della crisi economica che si sentirà in me dicono anche nel 2015 quindi saranno necessarie scelte importanti e anche forse anche popolari che riguarderanno appunto che consentiranno di poter riqualificare la spesa io concludo confermando appunto il voto positivo sia per le due delibere e anche per l'emendamento le dichiarazioni di voto sono doppie però avete consumato più tempo va bene abbiamo risparmiato i 5 minuti prossimi e comunque penso di aver dato spazio a tutti anche se qualcuno si lamenta prego consigliere Pedicini grazie presidente visto che gli interventi li fa solo la maggioranza è bene che ci sia anche qualche intervento dell'opposizione perché se no qua è l'unica la maggioranza che fa intervento prego se le fa e se le dice se le canta se le suona fa tutto allora assessore io vorrei ricordare della parabola dei talenti che mi pare un paio di domeniche fa ecco lo so che la conosce sei andato a messa un paio di domeniche fa si è parlato proprio va a messa l'assessore allora io ho l'impressione che lei rappresenti il terzo il terzo servitore perché il primo ha ricevuto 5 talenti secondo 3 il terzo ne ha ricevuto uno solo ed è andato a nasconderlo per terra ma quando è tornato il padrone e gli ha chiesto conto di questi talenti lui gli ha restituito il talento che aveva ricevuto perché le racconto questa cosa della parabola dei talenti perché ho l'impressione che il bilancio del comune di Pordenone sia in questi termini anche la io capisco che l'opposizione è stata lasciata senza parole perché in realtà per essere sinceri questi spostamenti di bilancio si potevano anche votare tranquillamente chiunque li potrebbe votare qui dentro e probabilmente noi ci asterremo ma semplicemente per un fatto formale ma non sostanziale perché tutte le variazioni che lei ha proposto sono tutte di buon senso che andavano fatte il problema che si pone e glielo poniamo gliel'abbiamo già posto e dove lei dovrà vincere la sua scommessa è nel bilancio del prossimo anno quello del 2015 che doveva essere a dicembre prima adesso è spostato ho sentito gennaio poi ha detto marzo febbraio marzo va bene speriamo che sia potrebbe essere anche gennaio ma si era detto di voler partire col bilancio nuovo il problema vero è che non c'è più tempo per nascondere sotto la terra i talenti che abbiamo ricevuto questa amministrazione non può fare semplicemente la corretta amministrazione o gestire quello che si ha perché le sfide che avremo nel prossimo futuro sono tanti e tali che non ci permetteranno più di poterle affrontare con lo stesso metodo che le abbiamo affrontate prima nel senso che si può diventare tra virgolette imprenditori della pubblica amministrazione e si può fare esistono dei mezzi dei termini ho sentito prima dai colleghi che mi hanno preceduto per esempio parlare del patto di stabilità lei sa benissimo che il patto di stabilità si può aggirare facendo lo stesso progredire la propria comunità perché ci sono altri mezzi altri sistemi per poterlo fare come è già stato fatto in passato e vi abbiamo dato merito quando lo avete fatto esempio l'intervento dell'impianto di calcio quando avete fatto l'intervento evitando il patto di stabilità per lo stadio Bottecchia in occasione del Pordenone ma il problema era la forma non la sostanza che ci interessava che si cominciava a capire che si poteva agire in modo diverso e così via la vera scommessa sarà proprio nel bilancio di previsione 2015 dove il vero confronto ci dovrà essere è vero quello che diceva il collega Salvador dei legami sociali di questa città ma i legami sociali di questa città li possiamo salvaguardare solo se rendiamo tutti i partecipi di un processo di cambiamento ma anche di evoluzione in avanti perché se è un processo regressivo così come oggi si sta verificando non per colpa di questa amministrazione o di un'altra perché è un fatto ormai che sta avvenendo in modo generalizzato ma la differenza fra le varie amministrazioni sarà nel saperlo affrontare o meno sono gli strumenti che noi riusciremo ad avere faccio un esempio molto concreto perché se no parliamo sempre di cose teoriche il fondo cassa che ha una pubblica amministrazione viene dato e gestito dalla tesoreria generalmente dalla banca che ce l'ha in tesoreria che ammonta generalmente un certo numero di milioni di euro di solito che è su un bilancio di 110 milioni di euro che è più o meno quello del comune di Pordenone viene dato anche quel fondo che rimane lì e che serve gestito dalla banca può essere utilizzato in modo diverso e farlo fruttare anche quello anche quello può fruttare e sono tutte risorse aggiuntive che si possono mettere all'interno di questo bilancio la gestione dei servizi che avvengono all'interno del comune ho sentito parlare di sussidiarietà è vero ma per esempio bisogna cominciare a capire anche le forme di assistenzialismo che vengono date non a chi ne ha bisogno a quelli che non ne hanno bisogno o a coloro che non ne hanno bisogno mi fermo no ci sono ancora qualche minuto perché è vero che dobbiamo aiutare ma non dobbiamo aiutare chi non ha bisogno di essere aiutato invece se noi andiamo a vedere in questa così bar e magnum che si vanno a fare si sta aiutando anche chi forse dovrebbe muovere un po' le chiappette e darsi da fare invece non si danno da fare perché tanto gli viene dato e quindi è giusto riceverlo non voglio fare le nomi e cognomi avremo tempo e modo di poterci confortare allora anche un'analisi di questo perché c'è gente che ha veramente bisogno allora gestire in modo diverso i servizi pensare a un'amministrazione che sia dinamica non passiva non che subisce semplicemente quello che sta avvenendo ma cerca anche di prevederlo e di poter agire in modo diverso di porsi in modo diverso nei confronti della propria collettività coinvolgendo anche le risorse che si hanno sulla propria collettività è la grande sfida del prossimo anno potrete fare un bilancio come quello passato come quello di quest'anno che vi porta a un assestamento come questo con le minori risorse bene ecco bisogna però avere l'idea sapere cosa si deve fare e come si deve farlo io mi auguro e noi saremo qui a dare una mano non è che siamo qua semplicemente a criticare se vorrete ma se non vorrete va bene lo stesso perché cercare perché l'interesse della nostra collettività coinvolge anche noi coinvolge tutti ecco che allora la vera sfida e concludo perché ho finito il tempo concludo è proprio quella del 2015 quindi sostanzialmente ci asterremo sull'assestamento di bilancia che ripeto si potrebbe anche votare a favore tranquillamente perché come si vuole contestare le cose che sono state proposte sono tutte cose che andavano fatte ma sostanzialmente è l'invito e mi associo a quanto anche hanno detto i miei colleghi la vera sfida sarà il 2015 e su questa ci troveremo grazie grazie consigliere del ben prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci eccoci allora l'architetto Pedicini ha fatto una bella dichiarazione di voto che si conclude con una anticipazione di astensione perché questo è praticamente una serie di variazioni tecniche di quelle che devono essere fatte e che non cambia nella propria sostanza il bilancio che era stato approvato da questo consiglio tempo fa ovviamente su questo giudizio di astensione anche noi ci adeguiamo però da quello che ho sentito mi pare opportuno fare un invito ho sentito all'amministrazione magari direttamente al sindaco che si sta parlando della prossima riunificazione delle case di riposo quello che voglio dire che non vorrei trovarmelo come argomento sul bilancio 2015 ma riterei opportuno discuterne prima in consiglio comunale tenendo conto che la questione case di riposo non riguarda solo il comune di Pordenone e che questo potrebbe anche coinvolgere i comuni viciniori con quell'ottica di conurbazione o che anticipa quello che sarà l'unione di comuni di cui si sta in questi giorni parlando in consiglio regionale quindi se anche di per sé una unificazione organizzativa economica potrebbe servire ma sempre nell'ottica di momento di passaggio perché questa questione dell'assistenza sociale sociosanitaria assistenziale debba avere un'integrazione che va al di là del nostro semplice comune quindi parlarne in consiglio comunale diventa sicuramente importante quello che voglio aggiungere adesso è questo ci è arrivato una proposta di emendamento piena di buonsenso corretto con tutti i giudizi positivi che si vogliono fare però quello che vedo è che la data è del 21 di novembre per dire che questa proposta di emendamento che cambia anche capitoli è venuta successivamente alla commissione di per sé di per sé nessun problema solamente che quando noi non quello che dico solo nessun problema solamente che andiamo ad approvare andrete ad approvare con la nostra stensione quindi sul piano operativo senza difficoltà particolari questo emendamento ma che però potrebbe essere un antecedente questo vuol dire che se sul prossimo bilancio di previsione riterremmo di presentare in corso d'opera in seduta modifiche dei capitoli di bilancio lo potremmo fare proprio in quel momento richiamando questo precedente ho ritenuto opportuno esplicitarlo qui in questo clima in cui questa sera il consiglio comunale è particolarmente produttivo perché poi sarà un metodo un riferimento per le prossime per le prossime discussioni sul sul bilancio di previsione con il consultivo che deve essere fatto quindi ripeto scusate il nostro orientamento di astensione proprio perché la nostra è una collocazione oggi che non è organica e che i propri giudizi li ha già dati sul bilancio quello più grande che oggi si va a demandare grazie consigliera Cardini prego grazie è di adesso grazie presidente ecco io sarò telegravi non si sente che camera non è qua non lo direi anticipato ci viene qualcosa che non si si è veramente perfetto grazie sarò tre grafiche anch'io anche noi ci esprimiamo semplicemente con una stensione perché sostanzialmente riteniamo che queste variazioni di bilancio siano sostanzialmente in linea con il bilancio che avete proposto sia ecco anche noi auspichiamo che per il 2015 ci sia un'operazione di carattere diverso perché vede assessore noi lo sappiamo benissimo che il vostro che sostanzialmente avete condotto un bilancio puntando alla razionalizzazione della spesa però vede quando io leggo nella delibera che la direttiva lungo cui si sono mossi gli uffici è stata quella di analizzare con attenzione eccetera eccetera ecco io non ritengo che lei sia l'ufficio per me lei è la direzione politica quindi quello che noi abbiamo sempre chiesto è che ci fosse una direzione politica a fronte di uffici che noi sappiamo che lavorano molto bene noi non abbiamo nessun dubbio sul fatto che gli uffici facciano il loro lavoro e che riescano a condurre il bilancio in un certo modo noi auspichiamo semplicemente che la razionalizzazione della spesa che voi avete considerato come parte fondamentale del vostro programma non si esaurisca non esaurisca tutto ma che per il prossimo anno ci sia sostanzialmente l'accettazione della sfida che la città propone riguardo al suo momento di crisi questa sfida va accolta va accettata va presa e gestita tutti quanti assieme perché noi sappiamo benissimo che solo attraverso un coinvolgimento di tutte le forze politiche probabilmente si arriverà a dare una svolta a questa città non potete farlo da soli a nostro parere per questo abbiamo chiesto più volte di essere coinvolti e per questo auspichiamo che ci sarà un coinvolgimento maggiore nel 2015 noi come ho detto ci esterremo su questa proposta di delibera perché è vero sono tutte variazioni di bilancio assolutamente coindivisibili non c'è nulla che possa essere criticato le scelte dell'amministrazione vanno bene sostanzialmente però noi riteniamo che anche queste variazioni siano in linea con quello che è sempre stato ci siamo sempre astenuti e anche questa volta faremo lo stesso grazie grazie consigliere consigliere Freschi prego grazie presidente semplicemente per aggiungere alcune note a quanto è stato detto finora dai colleghi consiglieri mi pare che sia stata fatta una panoramica abbastanza vasta di quella che è la situazione attuale di come lei ha trattato le delibere mi pare che da parte dell'assessore ci sia sempre un'attenzione particolare nel cercare di esporre gli argomenti cercando anche il coinvolgimento dei consiglieri mi pare che anche in questa occasione l'assessore sia stato abbastanza chiaro e dettagliato nell'indicare le linee di assestamento linee sulle quali non entro nel merito perché come diceva anche la consigliere Cardin sono delle variazioni che sono in linea con il bilancio che è stato proposto condotto soprattutto alla razionalizzazione della spesa ecco io penso però che noi qualche ragionamento in più lo dovremmo fare per quanto riguarda il bilancio previsionale 2015 e gettare le basi se non altro gettare le idee perché qualcosa di nuovo e di innovativo deve essere proposto anche alla luce di quanto diceva il consigliere Pedicini perché io penso che se noi mettiamo insieme le nostre idee se noi mettiamo insieme le nostre forze se noi mettiamo insieme la nostra idea di città può darsi che qualche elemento in più in un momento di crisi come questo riusciamo a mettere a mettere in atto ecco quest'anno ci siamo soffermati su alcune linee ci siamo siamo stati attenti a che non ci fosse un'ulteriore imposizione fiscale abbiamo cercato di introdurre degli elementi interessanti anche a livello di bilancio facendo dei ragionamenti anche sulla casa abbiamo introdotto abbiamo ripristinato un qualcosa che già c'era in questo comune che ad esempio era il comodato d'uso gratuito per quanto riguarda i familiari stretti cosa che è stata messa che è stata accolta è stata proposta è stato uno dei promotori è stata accolta dalla maggioranza e poi è stata accolta dall'amministrazione pertanto questo è stato un passo importante perché va nella direzione di un'attenzione soprattutto verso le nuove generazioni quelle che sono in questo momento particolarmente in difficoltà ecco io penso che per quanto riguarda il bilancio del 2015 noi dovremmo avere presenti pochi ma significativi punti cioè sono quelli di riuscire a mantenere quello che è il patrimonio della nostra città riuscire a mantenere anche dal punto di vista visivo dell'impatto visivo cioè una città che è manutentata una città una città che è pulita una città che in qualche modo si presenta in maniera decorosa è un modo anche per sollevare risollevare un po' lo spirito del quale tutti stiamo un po' vivendo un po' pacizzato dalla situazione della crisi ecco penso che questo sia uno degli investimenti che il Comune dovrà fare non potrà più fare altre cose ma sicuramente mantenere il patrimonio che ha e valorizzarlo per quello che ha fatto in questi anni l'altro aspetto era stato un po' accennato dal consigliere Salvador ripercorrendo un precedente intervento di Franchin quello della sicurezza intesa dal punto di vista della sicurezza sociale intesa dal punto di vista che lo spazio associativo deve essere in qualche modo non solo mantenuto ma deve essere rafforzato e deve essere anche in qualche modo stimolato perché solo mettendo insieme la gente solo mettendo insieme le persone solo facendo le cose insieme la comunità cresce l'isolazionismo non aiuta nessuno per cui tutto ciò che va verso un qualcosa che aiuta a creare socialità verso un qualcosa che aiuta a creare anche delle piccole attività di tipo economico verso un qualcosa che aiuta a incrementare quelli che sono stati fatti i passi anche di questi giorni per quanto riguarda le politiche abitative con il social housing sono tutti settori nei quali noi dovremo concentrare la nostra attenzione ecco io non voglio dire altre cose mi pare che negli interventi anche dei consiglieri ci sia stata attenzione a quanto l'amministrazione ha fatto in questi momenti però ecco c'è una cosa sulla quale e chiudo l'intervento dovremmo stare tutti attentamente accorti in questi ultimi tempi si parla spesso di Europa se ne parla a proposito e a sproposito ci sono due filoni c'è il filone dell'austerità da un lato che è molto criticato e c'è il filone della crescita dall'altro io penso che le due cose debbano essere coniugate con termini che riguardano di più la nostra amministrazione che vadano più nel piccolo e sono in pratica quello di governare con la diligenza con quello che è il senso dell'economia da un lato del non spreco da un lato ma quello che deve essere anche la fantasia della crescita dall'altro cioè riuscire a mettere in campo anche iniziative nuove che vanno oltre quelli che sono gli standard che vanno oltre quelle che sono quelle cose che in qualche modo sono istituzionalizzate ma che sanno cogliere anche le iniziative che sanno anche cogliere la fantasia che molto spesso viene dai giovani e che non sappiamo però molto spesso ascoltarli io da questa amministrazione vorrei questo scatto di reni questo sforzo cioè questo capire il momento che stiamo vivendo e con pochi mezzi che abbiamo a disposizione metterli perlomeno sul tavolo e dire noi siamo aperti venite portateci le vostre idee che in qualche modo cerchiamo di realizzarle c'è bisogno di questo per poter affrontare le sfide che sono certamente non sfide facili ma che in qualche modo debbono dare una visione se non altro di prospettiva per cui detto questo chiaramente il nostro voto sarà favorevole e anche un invito forte e a lei assessore che vedo molto attento e molto preciso in alcuni passaggi accogliere anche alcune linee programmatiche per il futuro grazie 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 consigliere freschi bene dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto pertanto pongo ora in votazione la proposta di deliberazione numero 38 2014 assestamento finale di bilancio contestuale aggiornamento dei documenti di programmazione così come emendata dall'amministrazione dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione seguente presenti 37 votanti 37 maggioranza 19 favorevoli 24 contrari 3 astenuti 10 la delibera è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto presenti 37 votanti 37 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 3 astenuti 10 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile l'emendamento era ricompreso all'inizio quando ho richiamato detto così come emendato bene teoricamente dovrei dare la parola per eventuali dichiarazioni di voto ma vedo che avete già tutti per la seconda proposta passiamo direttamente alle votazioni visto che tutti avete già dichiarato bene pongo in votazione la proposta di deliberazione avente seguente oggetto proposta numero 39 2014 ratifica delibera di giunta comunale numero 119 del 31 ottobre 2014 avente ad oggetto variazione di bilancio per spese correnti dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 37 votati 37 maggioranza 19 favorevoli 24 contrari 3 astenuti 10 la delibera è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 37 votanti 36 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 3 astenuti 9 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla proposta di deliberazione numero 40 2014 approvazione variante scusate prima di passare a questa l'assessore mazzerce no mi ha anticipato l'amministrazione che l'ultima deliberazione non verrà non verrà esaminata e non verrà discussa la numero 43 2014 come stabilito in commissione era stato anticipato bene passiamo pertanto adesso la proposta di deliberazione numero 40 2014 approvazione variante urbanistica numero 129 al piano regolatore generale comunale modifica il tracciato della strada regionale 2151 del tratto compreso tra il rio Beccuse ed il fiume Meduna adottata con deliberazione consigliare numero 38 del 22 settembre 2014 presa d'atto assenza di osservazioni e opposizioni la parola all'assessore Toffolo prego assessore grazie presidente come già annunciato dal presidente si tratta della variante approvata da questo consiglio adottata dal consiglio comunale il 22 settembre del 2014 relative alle modifiche del tracciato della strada della 251 il consiglio appunto aveva adottato la variante urbanistica che prevedeva delle piccole modifiche nel tracciato e quindi della posizione dei vincoli preordinati e lo sproprio necessari per il completamento delle opere e di conseguenza a seguito dell'adozione si è procedute con l'iter relativo alle operazioni di osservazioni e opposizioni da parte dei cittadini la variante stessa è stata pubblicata nelle forme consuete per un periodo di 30 giorni effettivi durante il deposito della stessa si è anche proceduto a siglare l'intesa con la regione in quanto proprietaria del manufatto e quindi con il settore direzione centrale patrimonio finanze coordinamento e programmazione politica economica e comunitaria che ha dichiarato di nulla avere quale rilievo alla proposta di variante sopra citata è stato nel frattempo anche espletato il procedimento di valutazione eventuale per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica e gli enti interessati hanno dichiarato la non assoggiottabilità della variante stessa procedura di VAS nel periodo dei 30 giorni non sono pervenute né osservazioni né opposizione da parte dei cittadini e di conseguenza si chiede al Consiglio di procedere con l'approvazione di detta delibera grazie grazie Sessore chiedo se ci sono richieste e dichiarimenti non vedo richieste pertanto dichiaro aperta la discussione consigliere Giannelli prego io sarò brevissimo tra l'altro è anche una dichiarazione di voto cioè voi sapete bene la nostra posizione qual era rispetto al discorso dell'opera che crediamo sia stato un mezzo disastro però nel caso specifico non abbiamo nulla da eccepire perché questo è un fatto tecnico e quindi ci asterremo però sottolineiamo ancora che non è stata condotta e io credo anche per colpa dei progettisti perché non si può arrivare a fare un'opera del genere dopo tanti anni con un aumento di spesa così davanti a situazioni di disagio allargamenti insomma chi più ne ha più ne metta oggi in Italia le progettazioni sono troppo spesso soggette ad imperizie e poi alla fine paga sempre il cittadino questo non è giusto grazie consigliere non vedo nessun altro iscritto pertanto passiamo al secondo intervento nessun iscritto dichiaro chiusa la discussione chiedo alla metà di attenzione repliche prego consigliere conficoni sì semplicemente per dire senza negare la nostra profonda insoddisfazione per l'evoluzione della gestione di quest'opera pubblica che questo passaggio è comunque una tappa fondamentale verso la ripresa dei lavori come avevamo annunciato in occasione dell'adozione di questa variante stiamo lavorando per la trasformazione dello studio di fattibilità in progetto sapendo di poter contare sul finanziamento aggiuntivo di un milione e 600 mila euro già erogato da parte della regione e contiamo entro febbraio di poter finalmente riprendere i lavori di realizzare un'opera certamente tormentata ma comunque che alla fine risulterà migliorata grazie alla realizzazione della pista ciclabile richiesta da molti cittadini e all'inalzamento ulteriore della quota stradale che garantirà la percorribilità della strada anche in occasione degli eventi con tempo di ritorno più elevato per cui come dire ci laviamo nuovamente la testa davanti al consiglio per come sono andate le cose ma insomma siamo fiduciosi che finalmente si possa superare questo stallo che perdura da troppo tempo grazie grazie passiamo alle dichiarazioni di voto nessun iscritto dichiaro chiuso la dichiarazione di voto e passiamo alla votazione pongo in votazione la proposta di deliberazione avente per oggetto proposta numero 40 2014 approvazione variante urbanistica numero 129 al PRGC modifica il tracciato della strada regionale 251 nel tratto compreso tra il rio Beccuse e il fiume Meduna adottata con deliberazione consigliare numero 38 del 22 settembre 2014 presa ad atto assenza di osservazioni e opposizioni dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito la votazione è seguente presenti 36 votanti 36 maggioranza 19 favorevoli 33 contrari nessuno astenuti 3 la delibera è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 36 votanti 36 maggioranza 21 favorevoli 33 contrari nessuno astenuti 3 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile passiamo ora alla proposta numero 41 2014 modifica articolo 4 regolamento comunale per la concessione dei contributi del patrocinio comunale la parola al sessore Cataruzza prego sessore grazie presidente essendo la proposta datata è stata dotata dal consiglio comunale con delibera numero 120 del 21 novembre 1994 quindi ha una genesi abbastanza lontana nel tempo chiederei al segretario generale un'illustrazione poi io mi riservo ovviamente di fare di dare tutte le spiegazioni del caso la proposta che come uffici abbiamo formulato da prima la giunta quindi che poi viene sottoposta all'attenzione del consiglio comunale in realtà riguarda solo una piccola una piccola modifica all'articolo 4 che in seguito a una alcune verifiche nei nuovi meccanismi sui controlli interni successivi quindi che significa degli approfondimenti seppure a sorteggio sugli atti molto profondi abbiamo verificato che il regolamento era molto rigido nei confronti di associazioni che operavano pur operando su Pordenone avevano sede fuori territorio sostanzialmente il regolamento prevedeva che non si potesse erogare finanziamenti sotto il profilo formale e quindi da qui la proposta di prevedere quindi un'integrazione all'articolo 4 che prevede limitatamente quindi al contributo di cui al punto B quindi finalizzato dalla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni l'amministrazione comunale può concedere contributi anche a sostanzioni ed enti che non hanno sede nel comune di Pordenone pur che le iniziative finanziate si svolgono sul territorio comunale abbiamo anche ricostruito la situazione degli ultimi due anni le casistiche sono state molto limitate 3-4 situazioni all'anno e tutte puntuali per dire non so l'associazione dell'orchestra del Friuli Venezia Giulia che è sede Udine ma che ha tenuto concerti qui queste sono le tipiche le tipiche casistiche di questo genere che però formalmente nel momento in cui come ufficio dobbiamo dare un parere di legittimità e quindi di coerenza totale fra regolamento e atto amministrativo questo non poteva non essere rilevato quindi direi un atto dovuto ecco assicuro che per il pregresso non ci sono state situazioni andandole anche a vedere a garanzie anche del Consiglio Comunale di abuso della norma o di utilizzo improprio perché sono tutte casistiche afferenti a iniziative sul territorio quindi in qualche modo al di là della violazione pura ma non hanno se mai ci poteva essere un rapporto fra Giunta e Consiglio che in seguito la Giunta è stata un po' più larga di interpretazione ma era una prassi che si è consolidata negli anni che adesso oggi come ufficio andiamo a chiedervi di sistemare Assessore ha concluso scusi sì chiedo se ci sono richieste di chiarimenti prego solo per sapere se era richiesto su questa delibera anche il parere delle circoscrizioni grazie grazie altre richieste di chiarimenti nel frattempo consiglio Cabibo prego no mi ha detto di no chi chiede chiarimenti chi vuole intervenire per la discussione prego no semplicemente volevo sapere quindi sentivo quello che ha detto il segretario abbiamo commesso delle infrazioni quindi in passato questo è cioè non abbiamo seguito il regolamento perché andiamo a bastonare a castigare alcuni imprenditori che mettono un maialino o qualcosa gli facciamo pagare la multa e noi non diamo l'esempio solo un chiarimento abbiamo commesso delle infrazioni in passato se lo sapere è questo se abbiamo commesso delle infrazioni sì abbiamo commesso delle infrazioni ok no questa è la domanda no non ho capito abbiamo commesso delle infrazioni quindi adesso ti rispondi non so adesso ci risponderanno non lo so dopo ne ho una prego consigliere Cabibbo signora grazie presidente e anche quanto incidono signora può dare la parola grazie sì prova allora beh volevo chiedere questo tipo di chiarimento che non è emerso in commissione in quanto ho qui i dati che erano stati consegnati al consigliere Loperfido che immagino gli aveva richiesti prima della commissione con la lista di tutti i diciamo sodalizi extracomunali che hanno chiesto patrocini e contributi al comune di Pordenone negli anni 2013 2012 2013 2014 volevo capire se è stato fatto un conteggio degli importi dei contributi erogati ad associazioni che non avevano sede nel comune di Pordenone negli anni scorsi e a quali anni si riferiscono i dati cioè fino a quale anno sono stati effettuati questi controlli da cui è emersa diciamo questa irregolarità che ha rilevato il segretario e l'ultima domanda presidente mi scuso rispetto alle erogazioni di contributi fatte ad associazioni che non avevano e che non hanno sede nel comune di Pordenone quali azioni l'amministrazione ha deciso di intraprendere o intraprenderà quindi rispetto ad un annullamento degli atti eventualmente o ad una convalide anche proprio da un punto di vista amministrativo grazie consigliere Pedicini Chiarimenti prego ma più o meno penso che abbia il consigliere Cabibo nell'ultima parte dell'intervento abbia anticipato leggermente volevo capire solo se con questa delibera andiamo a sanare oggi per allora le irregolarità che erano state commesse nel dare contributi a associazioni presenti sul territorio comunale con la propria sede ecco volevo solo capire se era retroattiva o era semplicemente per il futuro grazie grazie altre richieste e chiarimenti no bene prego sessore date la parola all'assessore Catarruzza prego un attimo ecco innanzitutto ha fatto una precisazione che i contributi assegnati alle associazioni perché sentendola così sembra che insomma ci sia stata qualcosa di criminale in tutto questo ma mi sembra che in realtà non lo sia per esempio prendiamo associazione teatrale friulana rassegna di teatro popolare auditorium concordia quindi c'è stato un contributo a un'attività che è stata erogata in questo caso il teatro popolare che viene fatto all'auditorium concordia i cui fruitori sono prevalentemente anziani che dove il comune ha contribuito in qualche maniera a una erogazione di un servizio e di una serie di spettacoli quindi non è che sia stato dato un contributo tanto così perché c'erano simpatici o belli altra cosa non so il festival del folklore è stato fatto uno spettacolo in piazza 20 settembre evidentemente il contributo che è stato dato è inferiore al valore di quanto è stato sostanzialmente proposto per cui se da un lato ci può essere un vizio formale di cui non ci eravamo accorti perché come ho detto prima c'era una delibera del 21 novembre del 94 dall'altro ci sono tutte situazioni che sono abbastanza circoscritte da un punto di vista sia numerico che da un punto di vista anche quantitativo che in qualche modo hanno a che vedere con soggetti o associazioni che comunque sono di Pordenone perché non so al teatro popolare ci sono delle compagnie che sono compagnie pordenonesi il conservatorio di Udine quando si fa i concerti estivi ci sono allievi che si esibiscono in città che sono allievi di Pordenone quindi oltre che allievi da fuori per cui ecco questo va sicuramente sottolineato oltre a questo io non credo che ci sia nessun tipo adesso lo chiederemo al segretario in maniera più precisa circostanziata di retroattività perché non c'è stato di fatto una violazione ripeto se non inconsapevole formale e oltre a questo non è stato invece rispondendo al consigliere Pasut un coinvolgimento delle circoscrizioni era almeno quello che è stato ritrovato ed è nell'operato mio sulla scia della continuità che c'era precedentemente non è stato sono erano normali attività culturali che in generale venivano svolte o per il Natale o per l'estate ecco questo grosso modo è il diciamo il nucleo forte di questi che sono i finanziamenti finanziamenti i contributi diciamo alle associazioni la prima domanda relativamente alle competenze delle circoscrizioni non è fra gli argomenti obbligatori perché non è un regolamento che attiene le circoscrizioni quindi che sono gli unici regolamenti previsti che vadano a parere e non è neanche un provvedimento generale di carattere programmatorio quindi per andare su materie che possano essere attinenti anche in senso astratto ovviamente il regolamento non sana situazioni precedenti perché non è scritto poi in modo tale e quindi di questa formale illegittimità risponde eventualmente chi chi ha deliberato ma di fatto è un rapporto più fra gestione e consiglio comunale perché sotto il profilo della legittimità sono tutti atti che si sono consolidati nessuno ha impugnato quindi non ci sono state e l'ultimo risale non in tempi di possibili ricorsi e quindi altri tipi di azione non vedo un pericolo sugli atti adottati anche perché l'uso è stato comunque coerente all'interesse pubblico al di là della formale violazione grazie i dati che ha chiesto il consigliere Cabibu conteggio e contributi gli anni precedenti 13 2012 nel 2012 sono stati ripartiti parlo di cultura perché poi c'è il discorso sport o altri assessorati perché tutti i contributi in qualche maniera ma nell'ambito culturale nel 2012 sono stati assegnati 21.850 euro così ripartiti l'associazione teatrale 8.750 associazione per l'arsegna del teatro popolare come dicevo poi è stata fatta una mostra al convento di San Francesco associazione Mediana Onis che ha sede a Cordenons ma in questa mostra c'erano diversi artisti pordenonesi poi l'associazione Modavi che ha contribuito a gestire tutta la parte di un bando vinto dal comune di Pordenone ha avuto un'assegnazione di 10.000 euro ovviamente richiesta in tutto la prassi e poi l'istituto di musica della Pede Montana concorso Luciano Gante 1.100 euro per totale come dicevo di 21.850 nel 2013 c'è stato l'associazione teatrale quella rassegna del teatro popolare 6.204,32 l'associazione folcloristica giovanile regionale sempre nell'ambito dell'estate in città il festival del folklore 1.000 euro e il comune di Barcis premio Cavallini che si svolge in città e quindi c'è una copartecipazione alle spese 2.000 euro totale 9.204,32 euro ecco per il 2014 sono stati richiesti il conservatorio ottomadini concerti aperitivo per l'estate in città il gruppo polifonico di Ruda che ha fatto l'estate in città anche lui il piccolo accordo del Friuli Venezia Giulia l'associazione Ipapu l'associazione Maravella l'associazione folcloristica del Friuli Venezia Giulia e il proloco di Aviano sempre per il discorso folcloristico sono tutte manifestazioni che sono svolte nell'ambito dell'estate in città e credo che l'importo non abbiamo ovviamente fatto alcun tipo di delibera di assegnazione dopo la segnalazione fattaci dal direttore generale per cui attendiamo ovviamente la deliberazione di questa sera per istruire le pratiche e fare eventualmente le liquidazioni del caso prego signor sindaco completo per la parte sportiva visto che è stato chiesto anche immagino possa interessare nella nostra discussione nell'anno 2012 ma si ripeterà nell'anno 2013 due sono state i contributi assegnati a due manifestazioni la prima è il torneo internazionale di pallavolo femminile Memorial Cornacchia quindi alla polisportiva San Giorgio di Porcia per 11.250 euro il secondo la seconda manifestazione il giro podistico internazionale città di Portaelone atletica brugnera per 13.500 euro totale per il 2012 24.750 l'anno 2013 i titoli sono gli stessi quindi torneo internazionale pallavolo femminile Cornacchia e polisportiva San Giorgio di Porcia valore 7.000 euro manifestazione il giro polistico internazionale città di Pordenone atletica brugnera 7.000 euro per un totale di 14.000 euro e i contributi che abbiamo quindi sulla falsa riga di quanto ha già detto l'assessore Cataluzza pendenti tra virgolette sono sempre per la polisportiva San Giorgio e il torneo Cornacchia e l'altro per l'atletica brugnera il giro podistico internazionale città di Pordenone grazie prego assessore Ramor per quanto riguarda l'assessorato welfare non abbiamo nessun caso di questo tipo bene terminati i chiarimenti le risposte ai chiarimenti se non ci sono altre richieste di chiarimenti no dichiaro aperta la discussione prego consigliere Pasutto grazie grazie presidente sì non è che voglio mettere in discussione quanto appena riferito adesso rispondendo la domanda la domanda il segretario c'è una modifica di regolamento quindi probabilmente trattandosi di erogazioni per contributi a realtà che si trovano all'esterno della città di Pordenone io credo che almeno un avviso alle circoscrizioni era dovuto se poi lei mi assicura che il parere della circoscrizione per questa delibera non serve io le credo immaginarsi assessore Cataruzza guardi le parla uno che insomma un po' me ne intendo e un po' vivo questi elementi per cui anzi benvengano le attività culturali ne facciamo purtroppo così poche non per cattiva volontà per qualche volta mancanza di risorse qualche volta perché non siamo organizzati o non ci vogliamo organizzare che io sono ben contento che si facciano queste attività però non posso nascondere la difficoltà di votare così in serenità questa delibera su questa modifica di regolamento per cui adesso poi magari farò un secondo intervento se non so se la collega Cardin farà un intervento anche lei sentiamo il dibattito come procede eventualmente poi nel secondo intervento capiremo meglio insomma questa delibera grazie 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 consigliere Persson prego grazie presidente signor sindaco assessori colleghi consiglieri desidero intervenire seppur brevemente per dirvi che così non va la modifica regolamento concessione contributi e patrocinio che questa maggioranza vuole approvare è davvero un errore infatti l'introduzione del coma 1 bis recita limitatamente di cui al punto B finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni l'amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede nel comune di Pordenone purché le iniziative finanziate si svolgano sul territorio comunale ma è evidente che la cosa non sta in piedi cari colleghi e non sta in piedi per almeno tre buoni motivi il primo i fondi a disposizione per l'associazionismo a Pordenone sono sempre meno e i bilanci in rosso degli enti pubblici in primis Stato e Regione non prevedono nulla di buono negli anni a venire il dovere istituzionale primario di ogni comune anche quello di Pordenone caro sindaco lei lo sa bene è tutelare lo sviluppo sociale e culturale e i diritti dei propri concittadini anche nel mondo associativo consentendo grazie ai contributi comunali di far crescere la cultura del fare associazione nella nostra città a favore dei pordenonesi quindi finanziare associazioni che hanno la sede in altre città se non altre regioni a discapito delle nostre è sbagliato secondo punto qualcuno potrebbe obiettare ma se la manifestazione è di qualità e si svolge a Pordenone perché no ma perché tutti sanno che ci sono vari livelli di contribuzione quindi se una manifestazione di alto livello e per inciso le associazioni pordenonesi non sono seconde a nessuno per qualità delle loro attività e qualche associazione di altre città o regioni vuol venire da noi benissimo ma sarà a quel punto compito della regione intervenire finanziariamente tanto più che essendo politicamente affini le amministrazioni della regione e del comune di Pordenone sarà per voi un gioco da ragazzi mediare e intercedere per ottenere il giusto ecco perché questa modifica è sbagliata terzo infine queste pensate quanti pensate siano i comuni della nostra provincia ad avere un regolamento che consente di dare contributi alle associazioni che vengono da fuori a me risulta davvero pochi o forse nessuno e vogliamo farlo noi ecco un altro motivo per cui è sbagliata ma tutte queste cose le sapete anche voi cari colleghi della maggioranza e allora perché volete perseguire in questo errore madornale spero vogliate ritirare dal voto questa assurda modifica al regolamento grazie grazie consigliere consigliere cabibbo prego grazie presidente ringrazio la collega Peresson che è entrata già nel merito della vicenda io invece voglio fare un passo indietro e voglio ringraziare il segretario che ha posto all'attenzione del consiglio questo problema perché in effetti si è verificata questa prassi che consentiva al comune di Pordenone di bellamente derogare alle norme del regolamento e che consentiva quindi di dare i contributi alle associazioni che non hanno sede che non avevano sede nel territorio comunale del comune di Pordenone ora chiaramente questa non è una situazione per il passato che si può considerare come buona prassi e scusate se faccio un discorso così se volete anche retorico ma noi abbiamo e viviamo in una società burocratizzata in cui lo Stato le regioni le province i comuni subissano i cittadini di tutta una serie di doveri di incombenti di rispetto di regole per cui a volte è anche difficile muoversi non da ultimo adesso la regione a tutte le associazioni che sono scritte nel registro di volontariato chiede la modifica dello statuto laddove mancano alcuni requisiti alcune associazioni non lo sanno neanche e se non lo faranno entro il 5 di dicembre verranno cancellate non potranno più usufruire di alcun contributo e noi abbiamo il comune di Pordenone che ha disatteso per non dire applicato in modo erroneo ovvero inosservato le norme del regolamento comunale stesso perché guardate è l'articolo 2 del regolamento che prevede la seguente norma l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi del comune da parte del comune allora il rispetto delle regole il rispetto dei criteri di ammissibilità e quindi il rispetto dei criteri di erogazione dei contributi è condizione di legittimità degli atti quindi sgombriamo subito il campo da possibili equivoci gli atti che sono stati fatti in passato sono illegittimi ora è ovvio che un atto illegittimo ha una conseguenza che può essere anche quella di mancanza di danno erariale questo aspetto è già stato chiarito dal segretario è vero non c'è non si configura un danno erariale perché comunque il contributo è stato erogato per fini corrispondenti eccetera ma io torno sul rispetto delle norme sul rispetto delle regole cioè o le regole le devono rispettare tutti i cittadini ma anche le amministrazioni che le impongono oppure il sistema non funziona perché è vero assessore che la manifestazione folcloristica può aver fatto una attività culturale degna di lode e meritevole di contributo ma se lascio l'auto in divieto di sosta oppure mi scade il biglietto del parcheggio non è che posso dire che sono andato con la nonna a fare la spesa e quindi in qualche modo il comune di Pordenone mi sana la multa allora le regole devono valere per tutti e così non è stato tra l'altro i requisiti non è che fossero poi molti quindi voglio dire anche chi doveva controllare le domande doveva controllare tre punti avere sede nel comune di Pordenone essere state costituite ad almeno due anni e aver svolto la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro quindi delle requisiti piuttosto semplici ed è lo stesso regolamento che all'articolo 21 istruttoria della domanda dice il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità è chiaro che quando un'associazione chiede un contributo al comune di Pordenone io mi auguro che il comune di Pordenone verifichi la sussistenza dei requisiti allora che cosa è successo mi domando dal momento che il requisito della sede nel comune di Pordenone è una delle cose più evidenti e semplici da controllare peraltro l'articolo 28 del regolamento parla anche di sanzioni l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge la revoca o la riduzione del contributo concesso e l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richiesti di patrocinio allora anche questa è una norma che vale solo per gli utenti solo per i cittadini o vale anche quando l'inosservanza delle disposizioni è effettuata dal comune di Pordenone ora quindi che ci fosse questa prassi lo abbiamo capito ma io mi aspetterei che ci fossero da parte delle amministrazioni buone prassi non prassi illegittime e dico di più guardate è vero che non c'è il danno erariale ma è anche vero che se i contributi che si potevano stanziare erano ovviamente un certo ammontare quindi erano limitate sicuramente saranno escluse dalla possibilità di ricevere dei contributi seppur magari apparentemente poco significativi però per un'associazione 300 euro 500 euro sono tante possono permettere di organizzare un convegno di fare una manifestazione di procedere con un progetto ecco io mi chiedo quante e quali sono state le associazioni che non hanno ricevuto i contributi perché i contributi sono andati a finire da altre parti e magari anche fuori dal comune di Pordenone proprio per il motivo che citava prima la collega Peresson e cioè per il fatto che sappiamo che purtroppo i contributi per le attività che svolgono le associazioni sportive culturali e quant'altro sono sempre meno ora parliamo di almeno dai dati che sono venuti fuori ma manca il 2014 quindi per due anni parliamo di circa 69.800 euro quindi siamo quasi a 70.000 euro solo per due anni 2012-2013 chissà prima cioè negli anni precedenti visto che il regolamento è del 95 che cosa è successo e quali sono gli ammontari detto questo dico anche che le associazioni che non hanno ricevuto il contributo potrebbero chiedere visto che si tratta comunque di aver subito un danno in base ad atti illegittimi dell'amministrazione pubblica potrebbero anche chiedere il danno per non aver ricevuto quei contributi e francamente non ho ben capito segretario quale è l'azione che il comune intende porre in essere per diciamo in qualche modo sanare questa situazione perché è vero che sono scaduti i termini per fare i vari ricorsi e quindi in qualche modo gli atti si sono consolidati però è anche vero che credo che una convalida di questo atto o eventualmente una richiesta di restituzione da chi ha ricevuto questi contributi potrebbe anche essere effettuata come è stato fatto in altri comuni io mi auguro che la restituzione dei contributi non avvenga perché queste associazioni hanno già sostenuto delle spese e hanno fatto affidamento forse in cauto affidamento su quello che è stato il contributo erogato dal comune di Pordenone e quindi però ecco un atto di convalida una decisione su quello che è accaduto in passato sicuramente secondo me va valutata con più attenzione questo riguarda il passato per il futuro molto velocemente allora qui noi dovremmo impegnarci nella modifica di questo regolamento comunale a permettere la possibilità di erogare contributi anche ad associazioni che non hanno sede nel comune di Pordenone ora premesso che stiamo parlando solo dei contributi quindi non del patrocinio e il patrocinio ha già in sé tutta una serie di agevolazioni molto importanti quindi il patrocinio si può concedere a tutte le associazioni e gli enti che decidono di fare attività nel comune di Pordenone e quindi di utilizzare le strutture vuoi le palestre per le attività sportive vuoi nei campi di atletica o di calcio o il teatri eccetera allora questo già è un grosso contributo non ovviamente in denaro ma un contributo alla realizzazione degli eventi che si può dare l'utilizzo quindi delle strutture l'utilizzo degli strumenti l'amplificazione e quant'altro quindi tutta una serie di cose che il comune concede gratuitamente proprio in virtù del fatto che concede il suo patrocinio in quanto ritiene quell'attività attività rilevante attività utile per tutta la cittadinanza pordenonese quindi sgombrato il campo da questo io dico ma in un momento in cui abbiamo grosse difficoltà e anche nel bilancio di previsione dello scorso anno si è detto che i contributi alle associazioni sarebbero stati sempre di meno dobbiamo andare a finanziare e a erogare contributi ad associazioni che non hanno sede nel comune di Pordenone allora scusatemi ma mi viene in mente un paragone che ho già citato in commissione ma che voglio portare l'attenzione anche del consiglio e torno ancora una volta a parlare degli importi che le famiglie pagano per il servizio delle mense scolastiche allora perché qui due pesi due misure le associazioni che non hanno sede nel comune di Pordenone si possono tranquillamente finanziare e con una certa leggerezza volemose bene tutto quello chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato scordammo giù passato come dicono a Napoli mentre invece per quanto riguarda il discorso delle mense scolastiche le famiglie non residenti che portano i figli a scuola a Pordenone scuola dell'infanzia ma anche scuola dell'obbligo quindi scuola primaria e secondaria statale pagano molto di più per la mense scolastica dei propri figli rispetto ai cittadini residenti questa è una scelta ma è una scelta che pesa sulle tasche delle famiglie guardate che ci sono le famiglie di Cordenons di Fiume Veneto di Porcia di Roveredo che portano i figli a scuola a Pordenone perché ad esempio magari hanno i nonni residenti a Pordenone o perché lavorano a Pordenone quindi per una diciamo gestione familiare per un'utilità familiare e che si trovano a sobbarcarsi delle spese di gran lunga superiori un non residente paga come quota per ogni singolo pasto alla scuola dell'infanzia un non residente 4 euro e 95 per ogni singolo pasto sapete quanto paga invece un residente 3 euro e 0 4 quindi il non residente paga il 63% in più che calcolando 5 giorni di scuola a settimana per la scuola dell'infanzia cioè la scuola materna quella che una volta era scuola materna per 10 mesi all'anno sono 382 euro all'anno in più per una famiglia per un figlio 382 euro se vogliamo parlare della scuola primaria la quota che pagano i non residenti è del 44% in più sono cioè 30 euro al mese per un figlio in più da pagare senza contare che le famiglie con più figli residenti hanno diritto ad avere degli sconti cosa che ai non residenti non è riconosciuta allora vogliamo dire che anche le associazioni che non hanno sede nel comune di Pordenone arricchiscono culturalmente sportivamente questa città benissimo e le famiglie che portano i figli a scuola a Pordenone allora vogliamo parlare di conurbamento vogliamo parlare della città dei 100.000 allora se vogliamo approvare questa delibera pensate anche alle cose molto più concrete che riguardano le famiglie che riguardano la vita di tutti i giorni soprattutto in un momento di grande difficoltà economica come quello che stiamo vivendo grazie consigliere consigliere Pedicini prego grazie presidente assessore devo dire la sincera verità che così come è stata posta la delibera devo dire anche sul passato non c'è niente di male a dare dei contributi anche ad associazioni che hanno sede fuori dal territorio comunale perché anzi sono anche tentato di dire che limitare semplicemente i contributi e le associazioni del proprio territorio è anche autocastrante scusatemi il termine o autolimitativo o ci poniamo in una condizione di non poter far crescere dialogare fuori ma il problema è un altro a mio avviso bisogna stare attenti invece che queste forme di attività non vadano a danneggiare le associazioni del nostro territorio e allora nel momento che associazioni esistono che vengono a svolgere attività sul territorio comunale che già altre associazioni del nostro territorio comunale svolgano forse bisogna preoccuparsi che non siano in sostituzione o in concorrenza o in alternativa di associazioni che svolgono qui o che almeno ricerchino una collaborazione una sinergia con le associazioni del territorio ha fatto bene lei prima dire su alcune di queste iniziative coinvolgono o hanno coinvolto associazioni del nostro territorio però attenzione perché se noi non lo mettiamo nel deliberato oppure perché basterebbe adesso stavamo pensando anche a un emendamento che vada ad aggiungere per esempio alla fine del deliberato che lei ha proposto il poter aggiungere che si può dare eccetera adesso mi hanno portato via il deliberato dove l'ho lasciato eccolo qua sì limitatamente al contributo eccetera di concedere contributi anche associazioni che non hanno sede al comune di Pordenone perché le iniziative finanziate si svolgano sul territorio comunale e coinvolgano di norma o in generale di norma coinvolgano o si svolgono in sinergia con associazioni presenti sul territorio comunale che svolgono attività analoghe perché il pericolo è effettivamente lei ha citato prima il festival del folcolore giovanile a cui avete dato un contributo che riceve già un contributo prego ma non è importanza 1000 euro 100 euro non è questo il problema io so che quella iniziativa si svolge sul territorio comunale coinvolgendo un'associazione locale per esempio che non riceve nessun contributo perché il festival del folcolore giovanile finanziato dalla regione che ha ricevuto i vostri 1000 euro coinvolge un'associazione locale che non riceve nessun contributo che gli dà supporto perché per loro per statuto lo devono fare bene quell'associazione coinvolge un'associazione locale anche se quella poi non riceve niente però si appoggia su un'associazione locale per svolgere la propria attività sul territorio comunale e poi vi chiede anche il contributo ma fin là ci sta il problema a mio avviso sono quelle iniziative che vengono svolte in come posso dire tra virgolette in concorrenza o in sostituzione di attività che svolgono già associazioni locali e allora ci troveremmo se noi liberalizziamo semplicemente questo certo starà poi alla sensibilità dell'amministratore capire se effettivamente concederlo o meno eccetera ma se noi vogliamo anche tutelare le attività che si svolge sul nostro territorio senza chiuderci senza creare barriere inutili a mio avviso un accenno o la possibilità di scrivendo di norma la possibilità di coinvolgere le associazioni che svolgono attività similari facciamo un esempio ovvio che se viene qui l'orchestra del Friuli Venezia Giulia fa fatica a coinvolgere le scuole locali però si svolge al teatro verde si svolge con un'associazione locale si svolge all'interno di un ambito e la coinvolgerà sicuramente per tutto ciò che ne comporta ma ma certo che è sempre stato fatto però tutti possono venire a svolgere attività qui il problema si pone nel momento in cui chiedono contributi al comune di Pordenone è una cosa diversa ovvio che tutti possono venire a fare attività a Pordenone e trovano centomila modi per venire ma il problema è che quando chiedono il contributo al comune il comune dà contributi decide in quel momento di non dare contributo a un'associazione locale di darlo a un'associazione per una serie di motivi il chiedere che questo avvenga nel momento che si danno dei contributi si chiede un coinvolgimento anche dell'attività delle associazioni locali non mi sembra che sia un assurdo potrebbe essere scrivendo di norma mettendo ci ragioniamo vedete anche voi come cosa eccetera però a mio avviso questa una cosa non esclude l'altra a mio avviso questa potrebbe essere la soluzione che mette insieme le due situazioni quella di dire io ho anche la possibilità di dare un contributo a un'associazione che non è del nostro territorio ma quando questa associazione svolge la sua attività sul nostro territorio e quindi ci chiede un contributo perché se la svolge non chiede niente sono fatti i suoi ma nel momento che chiede il nostro contributo noi ci preoccupiamo anche che abbia coinvolto o almeno viaggi in sinergia con associazioni che svolgono attività similari perché se no diventa ripeto con finanziamento comunale un'attività parallela vengono a svolgere attività perché ricevono anche questo contributo ma diventa concorrenza sicuramente nei confronti delle altre associazioni e visto che ragioniamo molte delle volte nell'ambito del volontariato non bisogna neanche come posso dire creargli dei problemi ulteriori rispetto a quelli che già hanno normalmente ecco questa potrebbe essere a mio avviso una soluzione io invito tutto il consiglio a ragionare nel dibattito anche su questa possibilità che potremmo presentare sotto forma di emendamento aggiuntivo al deliberato e questo metterebbe sicuramente anche in serenità e in tranquillità anche le altre associazioni ci risentiamo poi dopo dei prossimi interventi grazie consigliere Piccinato prego consigliere Piccinato grazie presidente cosa dire se i soldi se vogliamo dare soldi fuori eventualmente la strada maestra è darlo le nostre associazioni con cui devono eventualmente collaborare queste altre associazioni che poi li girano per i professionisti i relatori i docenti che fanno arrivare qua e che svolgono l'attività che può portare alla crescita della nostra città attraverso l'utilizzo delle nostre associazioni perché questo perché in questo modo crescono soprattutto in particolar modo le nostre associazioni con i nostri soldi se vogliamo far venire invece le associazioni da fuori per pagarle beh c'è un problema perché queste associazioni probabilmente riceveranno soldi da dove vengono quindi è totalmente inutile è anzi sbagliato dare altri soldi per questo tipo di 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 attività che vengono già finanziate da altri comuni altri enti altri livelli quindi qui stiamo parlando di sanare quello che voi avete fatto e che andava al di fuori del regolamento questo per me è un comportamento assolutamente sbagliato che va condannato quindi per quanto riguarda il discorso della concorrenza alle nostre associazioni teniamo conto che io sono andato a leggermi il regolamento sull'assegnazione dei contributi beh c'è scritto chiaramente che i contributi vanno dati prioritariamente a quelle associazioni che hanno un numero di iscritti elevato e che hanno e che propongono una una qualità di di proposta di offerta elevata ora è chiaro che se arrivano associazioni da fuori a chiedere contributi qua a termini di regolamento tocca darle che poi vengano e fanno razzia di quelli che sono i fondi messi a disposizione con le tasse dei cittadini di Pordenone questo per me è assolutamente una cosa che non va assolutamente fatta passare quindi do un consiglio al nuovo presidente della provincia che è qui di dare i fondi attraverso la provincia se sono associazioni provinciali visto che adesso ha anche in mano la provincia che li dia da lì che non vada a modificare questo regolamento con una legge che è ad persona perché è un nome e cognome per determinate associazioni evidentemente e che quindi vada a costruire un percorso che diventa assolutamente deleterio perché bisogna dirlo che questo è il sindaco che preferisce dare i soldi a chi di Pordenone non è dai clandestini e adesso anche alle associazioni perché coi soldi dei Pordenonesi vanno sempre fuori con le tasse dei Pordenonesi i cittadini di Pordenone danno continuamente soldi fuori grazie a questo sindaco che invece di valorizzare le competenze dei cittadini di Pordenone li penalizza questo deve essere chiaro molto molto chiaro questa è una norma ad personam proprio da voi che criticavate Berlusconi grazie grazie consigliere consigliere Martino prego grazie presidente allora prima di entrare nel merito di questa di questa delibera volevo pubblicamente ringraziare tutte le associazioni e i volontari che operano nei vari settori sportivo culturale ambientale eccetera per il grande lavoro che viene fatto appunto sul territorio non solo di Pordenone scusi consigliere signori per cortesia assessore Mazzer per cortesia per rispetto nei confronti di chi sta parlando vi ho richiamato ma dovete fare un po' di silenzio sì dicevo voglio ringraziare tutte le associazioni e i volontari operanti nei vari settori dove sono impegnate queste associazioni perché per il grande lavoro che fanno sul territorio perché ci sono tantissime persone e chi fa volontariato come me in passato ma tuttora lo sa che si impiega tanto tempo libero e tante volte mettendoci anche di tasca propria dei soldi quindi non è solo l'attività così come per altruismo ma proprio per concretamente intervenire dove magari tante volte lo Stato anche altri enti pubblici o gestori di pubblici servizi non arrivano sappiamo bene potremmo citare tante di queste associazioni l'assessore Romorre lo sa benissimo che operano proprio per dare un servizio concreto e intervenire dove c'è il bisogno ecco io credo che la discussione abbia preso una piega un po' particolare che non mi è piaciuta molto perché io credo si sta criminalizzando troppo su quello che è veramente il problema che stiamo affrontando con la modifica di questo articolo 4 io credo non siamo in un tribunale dobbiamo agire e comportarci facendo delle valutazioni politiche e in questo senso io credo che debba proprio per quello che è l'argomento credo che debba prevalere il buon senso e anche la buona fede dell'amministrazione quello che è stato fatto in passato è stato fatto e sono state coinvolte associazioni per rispondere a qualche collega dell'opposizione che adesso non ricordo sono state coinvolte associazioni che è vero avevano sede su altri non avevano sede a Pordelone ma perché non c'erano associazioni che svolgevano la stessa attività nel territorio comunale l'assessore ha citato io mi sono preso qualche appunto velocemente ha citato alcuni casi tipo comune di Barcius per il premio Cavallini i Papu che hanno una ragione sociale a Cordenonse questo è stato detto in commissione non questa sera i Papu che hanno una ragione sociale a Cordenonse e non a Pordenone e mi pare che non si possa mettere in discussione i Papu per quello che poi è l'offerta che viene data il servizio che viene dato ai cittadini di Pordenone e non solo è stato citato in altre associazioni per quanto riguarda il teatro popolare dell'associazione teatrale Friulania che si è svolta all'auditorium Concordia quindi io credo che andare a toccare come dire andare a contestare questo tipo di attività mi sembra un po' troppo l'argomento è stato portato in commissione adesso in consiglio per sanare così questo vizio che è più formale che sostanziale è una delibera del 94 che magari può essere sfuggito anche a quel punto lì però bisogna guardare l'interesse pubblico e non gli aspetti che sono stati mosse dall'opposizione io credo io capisco l'opposizione fa la sua parte però mettiamoci un po' di buonsenso anche perché è stato detto non c'è danno era reale ed è stato mi pare anche da parte dell'opposizione così rilevato e non so perché dobbiamo così andare a come dire a contestare un qualcosa che esiste relativamente vi ricordo che il volontariato è il volontariato senza scopro di lucro è un volontariato che tante volte agisce in difficoltà risorse economiche sempre minori tante associazioni si basano sui contributi di privati qualcosa dell'ente pubblico come è stato citato poco fa dall'assessore ma lo stesso queste associazioni operano e vorrei ricordarvi qualcuna di quelle che abbiamo visto operare tante volte nel nostro territorio nel caso di alluvioni il volontariato di protezione civile la croce rossa le caritas che sono sul territorio tutti i giorni tutti i momenti con le borse spesa allora io invito veramente i colleghi dell'opposizione a dare peso più a questa attività più a queste a quello che queste associazioni fanno piuttosto che alle formalità le formalità è stato ammesso dall'amministrazione c'è stata questa è stato rilevato diciamo questo aspetto però non calchiamo troppo la mano ecco io ho letto tutto il regolamento vi posso dire è stato anche in commissione un po' sono stati toccati alcuni articoli così come anche se noi stiamo discutendo solo sull'articolo 4 il regolamento di cui il comune si è dotato e non ce l'hanno tutti i comuni è bene articolato è un regolamento che prevede una serie di requisiti che queste associazioni debbano avere delle prescrizioni e proprio per questo questo serve per evitare l'erogazione a pioggia come magari avveniva in passato e anche in amministrazione del nostro territorio provinciale se non quello provinciale dove la pioggia arrivava spesso invece queste associazioni devono svolgere concretamente un'attività e credo e devono dimostrarla e credo che il comune abbia fatto tutto questo il segretario appunto ha ritenuto di intervenire e l'ha fatto e ha fatto bene così si va a sanare questa questa formalità è giusto estendere a queste associazioni che hanno sede fuori del comune di Pordenone hanno la sede fuori del comune e che però per determinati eventi sia chiaro non è che vengono dati così vengono dati solo per determinati eventi perché il comune li coinvolge in questa attività e ho detto anche poco fa quali sono i casi in questo modo viene arricchita l'offerta culturale sportiva sociale e quindi credo che tutto ciò debba andare nella direzione di approvare all'unanimità questa delibera vorrei ricordare un'ultima cosa che gli anni passati il governo Berlusconi aveva tentato di mettere mano alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF che è legata appunto alle associazioni ONLUS fortunatamente quell'assalto è stato sventato perché per tutti i motivi che ho detto poco fa per il lavoro che viene svolto per il fatto che si sostituiscono spesso allo Stato agli enti pubblici eccetera queste associazioni meritano una particolare attenzione quindi in definitiva il voto del Partito Democratico sarà un voto favorevole e invito tutti i colleghi a votare a favore di questa delibera e a superare gli steccati politici grazie grazie consigliere Martino consigliere Freschi prego grazie presidente io ho seguito ero presidevo la commissione per cui ho seguito i lavori della commissione e gli interventi che sono stati fatti in quella sede tra i quali in particolar modo l'intervento del consigliere Cabibbo consigliere del quale ho la massima stima e rispetto anche per la sua preparazione giuridica e di fatti non entro nel merito dell'aspetto formale del regolamento l'aspetto della legittimità perché ringrazio il segretario che ha sollevato questo tipo di problema perché mi pare giusto che nel momento in cui uno deve firmare un atto verifichi anche la congruenza di quello che sta firmando con quanto c'è scritto nel regolamento io vorrei richiamare il consiglio a entrare non tanto nel merito dell'aspetto formale ma quanto nel merito dell'aspetto sostanziale io penso che questo regolamento sia un regolamento soprattutto in questo articolo datato è un regolamento del novembre del 1994 20 anni fa allora penso che un po' di acqua sui pozzotti ponti ce ne sia passata stiamo parlando di città di 100.000 e in quel regolamento sembrava quasi che coordenò un sepolcia fossero degli extracomunitari perché era talmente circoscritto e limitato vede consigliere Presson lei fa un passaggio che io capisco dice in un momento di poche risorse però questo regolamento è stato fatto nel 94 le situazioni erano completamente diverse per cui non è che in un momento di poche risorse come può essere quello di adesso era uguale a quello di quella volta forse i principi erano altri che sottendevano la stesura di quel regolamento io penso vede che noi dovremmo entrare appunto nel merito e nella sostanza di ciò che si fa e di ciò che si vorrebbe fare e fare dei passaggi che riguardano le manifestazioni che sono state fatte e la sostanza di queste manifestazioni penso che se qualcuno di voi ha assistito alla rassegna del teatro popolare che viene fatta a Concordia forse si è reso conto che all'interno di quella rassegna ci sono tutta una serie di compagnie minori che riguardano il nostro territorio regionale e provinciale ma ci sono anche compagnie della nostra città che nel cartellone vengono mescolate assieme alle altre per cui è un'iniziativa che in qualche modo è trasversale è un'iniziativa in cui troviamo che ci sono delle compagnie che offrono uno spettacolo e sono del territorio e ci sono degli spettatori che assistono a uno spettacolo che sono del territorio non sono solo della città per cui dovremmo vedere queste cose con un obiettivo un pochino più allargato stessa cosa vale per altre manifestazioni che sono state fatte e che hanno avuto un discreto e importante successo in città allora io capisco l'intervento del consigliere Cabibbo che si è soffermato particolarmente sugli aspetti della legittimità dell'atto e ai quali ha risposto già in maniera direi esaustiva il segretario ma io inviterei tutti ad andare un po' oltre a entrare nel merito di questi aspetti nel contenuto di questi in quello che dice in pratica l'articolo 1 del regolamento dove si dice che queste manifestazioni dovrebbero essere orientate alla promozione sociale sportiva culturale del territorio allora se così è non dobbiamo avere paura nel momento in cui pentiamo in moto delle iniziative nelle quali qualcuno che non è residente legalmente nel nostro comune possa in qualche modo ricevere un contributo per fare delle manifestazioni che avvengono all'interno del nostro territorio noi dovremmo osservare la sostanza della cosa non tanto determinati limiti e determinati confini ecco pertanto io vi chiederei di prestare particolare attenzione a questi passaggi poi secondo me non vedo assolutamente negativo magari riformulato rivisto quanto sosteneva anche il consigliere Pedicini se ci sono delle associazioni che operano fuori dal nostro territorio ma che vengono nel nostro territorio per dare corso a delle iniziative nulla vieta che se fosse se è possibile magari chiedo all'assessore di riformularlo sulla base di quelle che possono essere le sue conoscenze la sua esperienza la sua storia le manifestazioni avvenute sulla base di quello che è possibile riformulare quell'emendamento creando come si può dire una sinergia con le associazioni con le associazioni locali questo mi pare il passaggio che ci permette in qualche modo di superare l'impasse in cui siamo un po' fermi ma ci permette anche di traguardare in avanti perché io penso che questo regolamento andava cambiato almeno per quanto riguarda questo aspetto molto tempo fa non soltanto perché il segretario si è accorto di questa anomalia ma nella sostanza andava cambiato perché di fatto noi dobbiamo rapportarci noi dobbiamo in qualche modo collaborare con quelle che sono le realtà che molto spesso sono di lente artistiche che molto spesso sono spontanee e che riguardano i nostri comuni i nostri comuni limitrofi ecco per cui è con questo spirito che vi chiedo senza nessun nessun nessuna volontà di polemica ma anche la sottolineatura che ho fatto con la consigliera Peresson non era assolutamente un motivo polemico ma era soltanto per dimostrare che questo regolamento è particolarmente datato e che va attuato e che va calato nei tempi che stiamo vivendo poi gli altri aspetti che sottolineava il consigliere Cabibo io capisco soprattutto dal punto di vista di un legale che qualcosa stride però non possiamo invocare il cambiamento o la critica alla rigidità delle norme nella quale ci troviamo un po' tutti ingabbiati e poi di fronte ad un aspetto che ci riguarda direttamente rimanere fermi dobbiamo anche qui fare uno sforzo che è uno sforzo collettivo per andare oltre per capire qual è il bene comune e penso che in questo caso il fatto di portare delle manifestazioni che possono avere un apporto un contributo un aiuto anche da chi non è strettamente residente dal punto di vista legale nel nostro territorio non possa essere che un arricchire la nostra comunità di un qualcosa di più importante di qualcosa di più interessante che può venire anche da fuori ecco è con questo spirito che invito l'assessore ad accogliere riformulandolo come lui ritiene opportuno quanto veniva detto anche in una proposta di emendamento e invito il consiglio a superare questo impasse e andare oltre perché ritengo che questo possa essere un punto qualificante per tutti grazie grazie consigliere consigliere Bianchini prego grazie presidente credo parlo ovviamente a nome del fiume che questa prassi questa consuetudine sia invece una buona consuetudine una buona prassi che è stata attuata dal nostro comune già dal 95 credo che proprio sia stato corretto farlo perché vedete colleghi io mi stupisco quando si dice che non è giusto dare soldi alle associazioni fuori dal nostro comune perché non è questo l'oggetto l'oggetto non è che quello di cui stiamo parlando oggi non è che non sono soldi che noi diamo alle associazioni di Aviano piuttosto che di Porcia ma sono soldi che noi diamo per eventi e iniziative presenti sul nostro territorio che hanno delle ricadute culturali e sociali che capisco che alcuni di voi non apprezzino ma anche economiche eh sì anche economiche perché caro Piccinato io capisco che lei è convinto che la parte culturale non sia utile alla comunità pordenonese a differenza di me invece che ne sono proprio convinto no io credo che invece Piccinato l'abbia detto poi se vuoi dire meglio ho capito male io ma questi eventi che hanno origine al di fuori del nostro territorio ma vengono poi espressi nel nostro territorio portano caro collega Gabibbo come dicevo prima allora aggregazione diciamo cultura alla nostra alla nostra comunità ma anche un ritorno economico perché se si fa sì sì adesso arrivo anche a quello adesso che arrivo a quello io abito a Porcia porto figlio a scuola quindi se mi fa un piacere ti ringrazio ma il discorso è un altro invece cioè porta anche un ritorno economico diciamo questi eventi e cioè chi viene a vedere faccio l'esempio del 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 festival folklore comunque andiamo proprio sul banale verrà un caffè a Pordenone visto che dai banchi dell'opposizione molte volte questa è la critica data alla maggioranza che non pensa al commercio e elevandoci un po' diciamo che porta come dicevo prima cultura aggregazione alla nostra comunità che più allargata sia meglio più allargata è e meglio è in questo caso sono convinto che le parole dette dal segretario cioè l'uso coerente all'interesse pubblico sia la cosa fondamentale di questa prassi finora portata avanti e aggiungo come ho cercato di spiegare in questo momento anche il valore aggiunto che questo porta alla nostra comunità chiudo l'intervento solo un inciso per rispondere al collega Gabibbo sul discorso degli asili e ha ragione consigliere ma vede in questo caso noi parliamo di interesse pubblico poi l'interesse privato di pagare meno all'asilo ai miei figli io la ringrazio ma è altra cosa ed è vero che se questa è una battaglia che lei vuole fare la può fare tranquillamente non togliendo ad esempio in questo caso risorse a degli eventi che anche lei io credo abbia partecipato ma faccia un ragionamento più ampio magari sul bilancio di previsione grazie grazie consigliere consigliere del ben prego grazie il dibattito sta prendendo ragionevolmente la strada giusta nel senso che è stata evidenziata la necessità di un miglioramento di scrittura di un regolamento per dire prendere atto di quello che si è fatto negli anni passati quando a Pordenone sono state realizzate iniziative culturali supportando associazioni che non hanno la sede nel comune di Pordenone l'importante è che fossero fatte qua e su questo siamo tutti quanti d'accordo allora cosa possiamo fare adesso che è emersa questa difficoltà interpretativa o applicativa del regolamento farne un miglioramento sul piano formale perché il sostanziale possa essere fatto come volevamo Freschi dice ci sono degli elementi che possono essere aggreganti all'interno del Consiglio Comunale magari facendo anche un piccolo passo in più rispetto a quello che era la formulazione del bis di questo regolamento come come che diventi questo un'occasione per coinvolgere per soffiare su alcune braci che sono magari dentro il territorio del Comune di Pordenone e che con queste esperienze possono avere un momento di ravvivare o di crescere o di fare qualcosa insieme siccome noi non possiamo stabilire quello che fanno quello che non fanno quello che sarà o non sarà ci sono delle formulette che l'architetto Pellicini ha usato con di norma cioè questo aggiunta al regolamento potrebbe essere emendato tenendo conto di quello che emerge che è emerso finora in questo dibattito ovviamente per demolire steccati perché non ha senso che ci siano steccati e ciò che demolisce i steccati è quello di dire che quelli che sono da una parte e dall'altra possono parlare perché il loro vivere sia molto più produttivo che anziché diviso da uno steccato allora mi pare che dai banchi della cosiddetta minoranza dalla minoranza in questo momento siano emersi elementi di disponibilità costruttiva affinché questa per dire mal formulazione di un vecchio regolamento si sposava mal si sposava con la realtà attuale il consigliere Freschi ha detto che l'assessore può prendere in mano una proposta di emendamento che peraltro no che peraltro abbiamo preparato e che insomma chi interverrà dopo di me potrebbe illustrare perché proprio un argomento come questo abbia abbia come esito un voto ampio del consiglio comunale perché vede che in ciò che è stato fatto era una traccia che andava nel verso giusto affinché Pordenone svolga il proprio ruolo di comune capoluogo ma anche di aggregare di creare delle iniziative che possono essere utili a tutti e Bianchini utili a tutti anche sul piano dell'attrazione economico eccetera di quello che è fatto verso il comune capoluogo con il rispetto e con la valorizzazione di ciò che cresce intorno e why not se qualcosa cresce intorno non faccia una specie di federazione fra associazioni che danno dei contributi positivi allora tutti gli elementi ci sono per trovare una composizione molto ampia una stesura partecipata un po' più ampia di quello che è proposta di questo miglioramento della formulazione che ovviamente assessore è colta in tutta la sua interezza non viene messa in discussione quello che no no per dire non è assolutamente una posizione di critica ma è per dire facciamo anche insieme un po' di strada adesso che abbiamo iniziato di andare in una direzione che qualifichiamo come giusta grazie prego consigliere Rossetto sì grazie signor presidente signor sindaco onorevole giunta i colleghi consiglieri e prendo la parola perché guarda caso venti anni fa mi sono trovato a votare questo regolamento e guardate un po' è stata un po' una sofferenza una sofferenza perché l'abbiamo votato con l'era Pasini e abbiamo visto poi che fine hanno fatto le varie associazioni con Pasini c'è stato creato il vuoto attorno a Pordenone si faceva poco si organizzava poco ecco quindi e questo veramente mi ha riportato alla memoria per quanto riguarda per quanto riguarda le attività culturali ecco quella quel periodo io oserei dire che l'ho vissuto proprio in prima persona come consigliere comunale quell'infausto periodo quindi senza senza voler fare senza voler fare della polemica voglio dire però che mi sembra giusto adesso rivedere questo solamente questo articolo e quindi non voglio ripetere gli interventi fatti dal collega Gregorio oppure anche da Freschi o dai colleghi della maggioranza ecco voglio voglio ricordare che c'è proprio anche un c'è stata anche un'attrazione un'attrazione io seguivo anche il mondo della palavolo e ricordo che il torneo Cornacchia per esempio che ormai era parecchi anni che viene fatto ecco il 29 io ricordo che seguivo nel 90 eccetera e volevo dire che innanzitutto le finali venivano fatti qua il palazzetto dello sport e mi sembra che vengano fatte ancora quindi è che questo torneo coinvolgeva perché sono andato a vedere delle partite Pasiano Fiume Veneto Cordenons naturalmente poi qua a Pordenone quindi veramente c'era un'attrazione sia sportiva però anche culturale perché con l'allora presidente Scotti presidente del consiglio abbiamo portato alcune squadre a visitare anche questa sala consigliare oltre che poi naturalmente attraverso i corsi e quindi diciamo c'è stata un'attrazione quindi c'è stata una divulgazione eccetera quindi dal punto di vista culturale e questo non dobbiamo dimenticarcelo anzi dobbiamo sottoscriverlo dobbiamo sottoscriverlo questa apertura che si fa con un minimo di finanziamento che però vogliamo dire che poi anche le associazioni pordenonesi vanno negli altri comuni e portano fuori sia attività sportive culturali e quindi e perché non essere discriminanti togliendo loro che se vengono fatte delle attività qui in Pordenone di non avere l'aiuto che vediamo un aiuto che abbiamo visto in questi anni veramente misero cioè secondo me secondo me invito proprio tutti i consigli e mi fermo qua perché altrimenti poi mi arabbio e quindi magari vado anche a rompere quello che è già stato costruito dai miei colleghi nel chiedere che tutti quanti votino questa questa delibera cioè ci sono anche le associazioni teatrali va bene anche io avevo un'associazione teatrale l'avevo e sono andato erano tempi più belli forse anche perché ero più giovane mi dedicavo anche a questo e in altri comuni sia nel Pordenonese ma anche Friulani e quindi e là ci davano un contributo per la nostra nostra attività e quindi c'era proprio questo scambio se vogliamo culturale e quindi teniamo conto che di questo cioè io non vedo come mai ecco secondo me beh niente volevo dire che poi anche non dobbiamo dimenticarci che siamo anche comune capoluogo e quindi come comune capoluogo io penso che abbiamo forse qualche finanziamento in più degli altri comuni e quindi mi sembra giusto e doveroso che l'amministrazione comunale essendo proprio del comune capoluogo metta a disposizione proprio alcuni fondi anche perché diciamo e lo voglio veramente sottoscrivere la cultura è contaminazione territoriale chiedo scusa ma mi sono infervorato un po' perché niente bisogna è giusto vero bisogna fare solo due mandati e basta perché altrimenti la memoria storica innervosisce soprattutto quando si parla anche di questo grazie grazie consigliere Rossetto nessun altro iscritto pertanto passiamo al secondo intervento nessuno iscritto do la parola adesso all'amministrazione pertanto dichiaro chiusa la discussione e do la parola all'amministrazione per la lettera di replica preso consigliere scusate è stata distribuita è stato distribuito un ammendamento firmato da alcuni consiglieri che è stato distribuito prego sì per temperamento non sono molto incline alla polemica ma mi pare che certe considerazioni vadano fatte alla luce di quanto è stato detto perché mi sembra che l'amministrazione venga diciamo accusata di turpine fandezze e di aver sperperato il danaro pubblico si è parlato di danno erariale che penso che sia una cosa sufficientemente grave allora questo ovviamente mi porta a fare delle precisazioni non è che qualsiasi associazione che arriva da fuori nel territorio di Pordenone e si inventa di fare qualcosa riceve un contributo come ho detto prima i contributi sono stati effettuati proprio per diciamo la configurazione giuridica del beneficiario perché la forma associativa prevede che determinate cose ci sia una circuitazione per esempio quella del teatro piuttosto che quella del folklore eccetera eccetera e la forma associativa spesso e volentieri noi diamo un contributo che poi significa un rimborso delle spese vorrei far presente che il coro l'orchestra San Marco le altre corali eccetera che vanno in giro per la regione non è che dalle altre parti non gli danno un contributo perché altrimenti e vorrei anche far presente che cultura e scambio e contaminazione come diceva Rossetto non è autarchia l'autarchia non credo parliamo di globalizzazione a livello economico e vogliamo fermare le idee a livello autarchico mi sembra una roba un po' francamente fuori da ogni diciamo da ogni logica se vogliamo inoltre quando si parla di finanziamenti regionali consigliera Peresson dovrebbe sapere che il teatro popolare queste cose qui sono finanziate dalla regione se i contributi che diamo sono così ridotti è perché a monte c'è un finanziamento regionale o un finanziamento provinciale quindi c'è una pluralità di finanziamenti che permettono poi una circuitazione dei vari spettacoli che permettono poi una serie di iniziative che possono essere fatte anche sul nostro territorio quindi il danno erariale sarebbe se non facessimo queste cose perché se noi comprassimo uno spettacolo a prezzo intero pagheremmo decisamente di più e quindi il comune ci rimetterebbe facendo così dando un contributo che ripeto è nove volte su dieci un rimborso spese abbattiamo i costi perché questo rientra in una circuitazione per cui è bene che determinate forze politiche esprimono chiaramente se non vogliono in comune il teatro popolare per le persone anziane se non vogliono i papu che come associazione hanno sede a corde nonse quindi sono fuori dal territorio comunale eccetera eccetera che si dica chiaramente che cosa si vuole fare questo è il discorso per quanto concerne invece la proposta del consigliere pedicini io mi sento di proporre a questa assise la sua approvazione il suo accoglimento con una piccola leggera modifica che porta al plurale la parte finale che lui ha detto è di norma in sinergia con una o più associazioni presenti sul territorio comunale che svolgono attività similare quindi questo se può andar bene è diciamo sicuramente condivisibile ecco credo che ci siano dobbiamo metterci d'accordo perché ci sono bisogna non bisogna neanche confondere i contributi alle associazioni che alcune associazioni del territorio prendono per la loro attività sociale da contributi che sono spesati in voci specifiche come l'estate in città come il Natale in città eccetera quindi fanno parte di altri centri di costo perché non possiamo pensare cioè i commercianti ci chiedono attività in centro con attrattive con cose non possiamo pensare di far circuitare sempre i nostri e le nostre associazioni le nostre cose per creare attrattiva o per creare attenzione di gente da fuori questo bisognerebbe un attimo riflettere prima di dire certe cose certo è che se domani mattina dovessimo organizzare il concerto di Rolling Stone in piazza con il benessere e la benedizione del consigliere Giannelli sicuramente non potremmo dare un contributo ma dovremmo pagare un cachet che sarebbe un cachet diciamo decisamente esorbitante per le nostre magre possibilità questo è ma non mi pare né che la quantità né che diciamo gli avvenimenti le proposte che sono state fatte siano frutto di turpine fandezze come invece qualche consigliere ha in qualche maniera buttato lì prego signor sindaco subito sindaco prego volevo solo aggiungere un commento avvalendomi dell'esperienza del segretario abbiamo fatto una rapido che come voi sapete ha lavorato in diversi comuni del Friuli Venezia Giulia e facendo una rapida verifica anche di altre città devo dire che come sindaco sperperatore di risorse che le dà fuori sono in buona compagnia perché in provincia solo di quelli che abbiamo verificato a vista certo Spilimbergo o Sacile non hanno limiti di sorta ma poi ho trovato città anche come Verona che se ben ricordo non è che sia gestito governato da un comunista quindi voglio dire a mio avviso questo invito di vedere questo scambio in questa formulazione che abbiamo fatto che è relativa a finanziamenti specifici su manifestazioni perché forse è meglio sottolinearlo questo non ci sembra proprio fuori del tempo né un cattivo esempio da condividere Sì grazie signor sindaco chiedo ai proponenti l'emendamento se sono d'accordo nella modifica proposta sì pertanto la riteniamo accolta e pertanto non dobbiamo mettere in votazione bene grazie bene dichiaro aperte le dichiarazioni di voto Consiglio Pedicini prego bene allora molto velocemente volevo vedo che poi la discussione prende intanto volevo scusarmi con i consiglieri a cui non era stata chiesta la firma sull'emendamento ma non era per cattiveria è stata solamente una questione di consegna e poi è tutta colpa mia personale perché ho raggiunto un certo numero di firme e poi sono andato a consegnare ma senza motivo ad escludendum quindi chiedo scusa personalmente ai consiglieri che non hanno potuto sottoscrivere quell'emendamento e li ringrazio anche per il fatto che lo avrebbero sottoscritto però lo scopo dell'emendamento era solo quello poi condiviso che era quello semplicemente la ringrazio assessore per averlo accolto anche se lo ha modificato migliorandolo per quanto riguarda lo scopo che era quello di mettere insieme la disponibilità che avete espresso di ovviamente dare la possibilità di poter dare dei contributi quindi di non fare una gestione autarchica e chiusa e che sarebbe in contraddizione con lo sviluppo di questa città che tutti noi auspichiamo ma nello stesso tempo salvaguardare anche l'attività che si svolge all'interno del Consiglio Comunale dell'attività del Comune di Pordenone e quindi ritengo che alla fine riusciamo a mettere insieme le due situazioni che si vengono a creare e che di tutti noi le viviamo le conosciamo e siamo sicuramente al corrente il vero problema che noi dovremmo affrontare piccola divagazione se mi permettete sarà proprio questa nel prossimo futuro noi dobbiamo andare verso una forma anche tra virgolette di cultura imprenditoriale perché sicuramente la cultura come è stato detto più volte è uno dei motori dello sviluppo della nostra società anche in un momento di crisi come questo però dovremmo aiutare e permettetemi di dirlo a diventare sicuramente usando poi la forza anche del volontariato della forza che hanno le associazioni sul nostro territorio che è molto importante ma usarle a diventare più imprenditoriali le associazioni stesse perché ci devono aiutare con la loro attività non solo a ricevere eventualmente contributi per le attività che fanno ma devono anche far lievitare e far crescere l'attività che si svolge sul nostro territorio aiutando anche le attività economiche che vicino a queste associazioni sviluppano le loro attività l'ha accennato lei prima si fanno le attività in centro perché i negozianti cercano di trovare motivi di sviluppo di attività è giusto è corretto ma bisogna anche che ci sia una sinergia che si sviluppi tra associazioni attività economiche senza avere delle come posso dire delle remore oppure delle paure cioè bisogna che ci si crei questa commissione fra l'attività associativa di volontariato se vogliamo far crescere l'intera città e se vogliamo che la cultura diventi anche un motore di sviluppo economico per il nostro territorio perché allora solo in questo modo potremmo essere sicuri che facciamo crescere anche le attività economiche del territorio non è facile mi rendo conto lo capisco non è che sia però dobbiamo provarci dobbiamo cercare di fare questo stasera questo dibattito a mio avviso è interessante perché ha messo in evidenza sicuramente aspetti anche nuovi di questo certo non è forse poi ci siamo capiti anche con il consigliere Gregorio non è un fatto politico nessuno ne ha fatto una questione politica di contraposizione non c'è non c'è nessuna ideologia in merito c'è semplicemente la necessità di non precluderci la possibilità di sviluppare attività anche che vengano dal di fuori sul nostro territorio ma nello stesso tempo aiutare le nostre associazioni a crescere e ad essere al pari di queste altre associazioni oppure che lavorino in sinergia ecco mi sembra che alla fine la conclusione che noi diamo a questa delibera sia una conclusione positiva che ci fa fare un passo avanti quindi il nostro voto sarà un voto ovviamente favorevole così alla delibera così come presentata e così come emendata dall'assessore grazie grazie consigliere Pedicini prego consigliere Pedicini grazie presidente mi ero un attimo distratta perché mi pareva ci fosse il collega ah ecco c'era il collega con la Unime ma faccio la dichiarazione di voto a titolo personale ma credo anche sulla linea dei miei colleghi perché andrò ad esprimere una posizione che loro hanno già espresso precedentemente durante il dibattito generale ma mi dispiace dover dire quello che sto per dire però veramente io non ci sto rispetto ad una strumentalizzazione che è stata fatta nei confronti di chi questa sera qui ha espresso la propria opinione in dissenso più o meno forte rispetto ad una tematica che è importante certamente che è quella della cultura non ci sto a che si faccia passare l'idea che qui questa sera qui vota contro questa modifica e contro i commercianti o è contro il teatro popolare degli anziani no è stato questo è il messaggio che passa e io non ci sto non ci sto questa è una strumentalizzazione becera allora detto questo guardate stiamo parlando di una cosa importante per la nostra città che è la cultura ma non stiamo parlando né di sanità né di fame né di sete attenzione perché perdiamo spesso e volentieri la misura delle cose importante l'aspetto culturale importante la contaminazione della quale qualcuno ha parlato e ricordato facendo riferimento all'approvazione di questo regolamento in un periodo buio della città di Pordenone che per fortuna è passato e adesso chi esprimeva il buio allora sta l'opposizione e chi esprime la luce sta la maggioranza ma guardate che la verità in tasca non ce l'ha proprio nessuno e non credo ci fosse nulla di straordinario rispetto ad alcuni interventi che ho sentito qui questa sera in aula e faccio riferimento ai colleghi ma faccio riferimento in particolar modo al collega Cabibo che è una persona moderata non l'ho mai visto saltare sopra i banchi quando ha evidenziato alcune criticità caro Bianchini ma se non mi è scritto in formazione io posso dire anche la mia sì e io adesso sto dicendo la mia stavo semplicemente è certo ma stavo semplicemente dicendo che l'idea e il concetto che è passato è questo e non è a mio modo corretto detto questo guardate spingersi fino in fondo a dire che la scuola materna dei bambini è una questione di interesse privato e questo invece è interesse pubblico perché l'hai detto tu e non l'ho detto io e non l'ho detto io guarda sono in grado credo di comprendere alcune volte magari non ah ti sei spiegato male allora allora ho compreso male io ti sei spiegato male tu concludo la dichiarazione di voto dicendo che rispetto a quanto è stato evidenziato e rispetto al fatto che io non l'ho seguita in commissione e confesso di non avere letto riga su riga ma di aver ascoltato un attimo il dibattito arrivare a circa 70 mila euro in due anni che sono una cifra probabilmente modesta non lo so di soldi che vengono assegnati ad associazioni che hanno la residenza fuori dal nostro territorio credo siano tanti aggiungo in riferimento quindi il voto rispetto alla deliberazione proposta è contrario da parte di tutti di me e dei consiglieri che stanno in gruppo con me per quanto riguarda il voto sull'emendamento io personalmente mi asterò perché c'è questa formulazione di norma che significa come dire l'abbiamo visto un po' anche nelle leggi regionali di norma vuol dire tutto e non vuol dire niente e quindi in riferimento a questo dubbio che io ho io personalmente mi asterò grazie grazie consigliere consigliere io mi sono astenuto di partecipare al dibattito perché altrimenti magari qualcuno poteva pensare che parlassi per giustificare i miei miei vittimi in effetti approfitto adesso delle chiarazioni di voto in cui il clima si è un po' pacificato credo mi pare a parte l'ultimo intervento ma insomma capisco anche che possa succedere per dire che questa norma che noi aggiungiamo è di assoluto buonsenso come vi assicuro che il buonsenso è stato usato credo in questi tre anni e credo anche nei cinque anni precedenti perché poi alla fine più di qualche associazione fuori comune veniva a bussare però il tutto come adesso naturalmente viene valutato in base a quei criteri che oggi anche formalmente prenderemo in esame e quindi voteremo senz'altro a favore come siamo perfettamente d'accordo con questo emendamento anche tenendo presente una cosa che per l'amore di Dio risultava in qualche misura da molti interventi ma che bisogna dire con chiarezza non dimentichiamoci che siamo il camune capoluogo e quindi qualche come dire obbligo ce l'abbiamo anche in questo campo a parte il fatto che è reversibile il fatto che altri comuni accettino anche nostre associazioni ma appunto ricordiamoci anche di questo fatto abbiamo in qualche modo come dire il dovere oppure la sensibilità se non volete usare se non vogliamo usare questo termine molto pregnante la sensibilità di come dire essere partecipi con altri di quello che noi abbiamo e anche dare ai nostri cittadini ma anche altri cittadini quello che come dire ci viene proposto e ci viene offerto il voto è senz'altro favorevole grazie consigliere Coloni consigliere Cabibo prego grazie presidente allora intanto vorrei precisare una cosa assessore Cataruzza che forse lei non ha ben capito quando ha parlato di danno no no io non mi sono spiegato male e lei si vada a risentire per favore la registrazione di quello che io ho detto io non ho parlato di danno erariale anzi ho detto che non c'è nessun danno erariale si vada a risentire quello che io ho detto non c'è nessun danno erariale e quindi sotto questo profilo ho detto non c'è alcun problema ho detto invece che gli atti che l'amministrazione ha posto in essere sono atti illegittimi e questo non lo dico io ma lo dice il regolamento stesso perché se viene predisposto un contributo e non vengono rispettati i requisiti l'atto è illegittimo e siccome non c'è chiarezza sul fatto che questi contributi per il passato vengano gestiti in modo corretto rispetto agli effetti di questi atti siccome non sappiamo i dati precedenti al 2012 perché qui stasera abbiamo parlato di 69 mila euro del 2012 codice del 2013 ma se questo regolamento è del 95 chissà in passato che cosa è accaduto e chissà quali sono gli importi e siccome io non ci sto e ringrazio la collega Marapicin che diceva non ci sto alla continua supponenza e presunzione di avere la cultura e di avere dei doni di intelletto superiori a quelli che la pensano in modo diverso o che appartengono ad un'area politica diversa io non ci sto neanche a passare come il fustigatore così intransigente di un legalismo assoluto non ci sto non ci sto ma ci sto ad avere un'amministrazione pubblica che rispetta le regole così come chiede ai cittadini pur non essendo di principio contrario all'idea che si possa anche dare un contributo ad un'associazione che sviluppa sul territorio comunale un'attività o direttamente o per interposta persona come propone anche l'emendamento che è stato poi accolto dall'amministrazione però non posso votare a favore di questa di questa delibera e quindi il voto del gruppo che rappresento sarà di astensione grazie consigliere Pazut prego sì grazie presidente ringrazio anche il consigliere Gabibo perché i suoi interventi così tecnici anche di buon senso danno proprio la dimensione che la cultura non è solo di destra di sinistra insomma ma appartiene un po' a tutti secondo le proprie sensibilità siccome ricordo e me l'ha fatto venire in mente il collega Colaoni di aver già vissuto questa situazione riguardo a contributi erogati a enti e associazioni che abitavano fuori il territorio comunale era già emersa questa cosa ma non si erano mai prese decisioni in merito si era sorvolato e qui devo fare mea culpa perché allora potevo fare osservazioni che adesso vedo con altri occhi evidentemente tuttavia io sono convinto che a parte che siamo la città capoluogo e quindi come dice il collega Coloni abbiamo anche un dovere di ospitalità e comunque abbiamo anche come dire la gratificazione anche se vogliamo di ospitare e di dare contributi alle associazioni a tutti quelli che fanno cultura io dico comunque che questo passaggio che è stato dibattuto lungamente ha comunque almeno per quanto mi riguarda e devo ringraziare anche il collega Pedicini che con questo emendamento chiarisce alcuni passaggi che in qualche maniera puntualizzano quella che è il ruolo delle attività che si fanno a Pordenone rispetto anche a quelle che vengono proposte da fuori io credo che ne usciamo un po' tutti quanti arricchiti non condivido alcuni commenti che si sono fatti in questa aula non li condivido appartengo appartengo al mondo dell'associazionismo culturale di vario tipo per cui sono molto favorevole affinché si facciano queste promozioni mi consenta di dire un'altra cosa non so se sono i titoli di giornale che sono stati scritti qualche tempo fa che noi a Pordenone abbiamo avuto abbiamo avuto e abbiamo tuttora delle realtà culturali di espressione musicale molto importanti anche giovani e che poi col passare del tempo non sono più giovani ma che mi riferisco al gruppo dei tre allegri ragazzi morti per i quali si è eletto non so se corrisponde a verità infatti vedo dalla sua espressione che probabilmente era la solita buttade no no mi faccia finire poi guardi lei ha lei ha lo stesso lei ho notato che questa sera pur dimostrandosi persona pacata calma eccetera però manifesta esterna le sue sensazioni in maniera che lo faceva qualcun altro quando era studente che infastidiva alla gente anche se le sue esternazioni erano come dire motivate ecco quindi immagino e colgo l'occasione le do l'occasione perché anche lei ribadisca questa sera che quella butade giornalistica sul fatto che il comune di Pordenone si è rifiutato di ospitare una mostra sui tre allegri ragazzi morti non corrisponde a verità ecco comunque il nostro voto di gruppo sarà favorevole alla delibera grazie grazie il consigliere Pasotto il consigliere Rossetto sì anche se il nostro voto favorevole a questa delibera è già stato espresso dal consigliere Gregorio Martino che mi ha preceduto ecco volevo dire che chiaramente quello che è stato detto qui all'interno di questo consesso ecco non si voleva per niente strumentalizzare nessuno e poi senza nessuna presunzione ecco diamo un voto veramente convinto concreto anche perché ricordo che in moltissimi comuni si adotta questo quindi si dà se viene calato sul territorio dell'attività culturale teatrale eccetera anche gli altri comuni di qualsiasi colore danno un contributo quindi mi sembra giusto e doveroso che anche Porte None lo faccia come ho detto prima anche essendo proprio comune capoluo quindi il voto favorevole sia all'emendamento sia la delibera da parte del partito grazie grazie consigliere Rossetto bene dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto bene passiamo alle procedure di votazione diamo avvio alle procedure di votazione pongo ora in votazione la proposta di deliberazione avente per oggetto proposta numero 41 2014 modifica articolo 4 regolamento comunale per la concessione dei contributi del patrocinio comunale così come emendata dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 35 votanti 35 maggioranza 21 favorevoli 30 contrari 3 astenuti 2 la delibera è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito votazione è seguente presenti 35 votanti 35 maggioranza 21 favorevoli 30 contrari 3 astenuti 2 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora la proposta numero 42 2014 ATEM gas Pordenone servizio di distribuzione del gas naturale approvazione schema di convenzione regolanti rapporti tra i comuni dell'ambito Pordenone prego la parola assessore Conficone sì grazie presidente nonostante l'ora tarda il consiglio comunale è chiamato a deliberare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra i comuni facenti parte l'ATEM Pordenone cos'è l'ATEM come è esplicitato nel frontespizio della delibera l'ATEM è l'ambito territoriale minimo cioè un bacino ottimale che è stato individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle modalità di erogazione del servizio cioè la continuità delle reti per lo svolgimento della gara propedeutica l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale quel servizio che a Pordenone per capirci è dato in concessione ad Italgas questa gara deve essere pubblicata entro il novembre del 2015 pena una una riduzione del canone di concessione che viene attribuito ai comuni facenti parte l'ambito è indubbiamente una gara importante ed impegnativa sia per la quantità dei soggetti coinvolti che anche diciamo per la dimensione degli interessi in gioco il comune di Pordenone percepisce oggi da Italgas un canone per l'affidamento in concessione di questo servizio che è di circa 170.000 euro l'anno è una tappa a questa gara fondamentale del percorso che il legislatore ha in qualche modo delineato per andare a liberalizzare il mercato di distribuzione del gas succintamente cos'è che prevede la convenzione che oggi il consiglio è chiamato a deliberare esplicita quelli che sono gli obiettivi che con la gara intendiamo perseguire che in termini generali sono l'efficacia l'efficienza l'economicità la sicurezza e la qualità del servizio come già detto in commissione alla fine gli elementi in gioco quali saranno l'ammodernamento lo sviluppo il potenziamento della rete la sicurezza e la qualità del servizio erogato e il livello delle tariffe o il canone percepito diciamo di concessione della royalty percepita dei comuni con un favor però che ha stabilito il legislatore in favore appunto della qualità del servizio erogato e dell'economicità delle tariffe piuttosto che non diciamo di un canone di una royalty attribuita ai comuni la concessione elenqua quelli che sono i comuni che fanno parte del nostro ambito territoriale ottimale minimo che sono 48 cioè tutti quelli della provincia di Pordenone eccetto 5 che sono collegati al portoguarese come connessioni delle reti più un comune della provincia di Udine e un comune della provincia di Treviso la convenzione conferma che il comune di Pordenone svolgerà il ruolo di stazione appaltante e quindi anche un ruolo di coordinamento tra tutti i comuni che fanno parte l'ATEM specifica che la gestione dei rapporti tra tutti questi comuni deve essere improntata al principio della trasparenza della solidarietà e della condivisione ed in particolare che ci deve essere una forte collaborazione finalizzata allo svolgimento della gara in tempo per evitare la riduzione del canone di concessione la convenzione la convenzione costituisce due organismi l'assemblea dei sindaci che sarà competente eventualmente per la risoluzione del contratto e un comitato di monitoraggio che dovrà provvedere alla verifica e al controllo dei contenuti del contratto stesso nel momento in cui diventerà operativo questa convenzione interviene anche a definire alcuni aspetti economici in particolare quelle che sono le modalità di rimborso dei costi che verranno sostenuti per lo svolgimento della gara in particolare stabilisce come ripartire la somma pari a circa 530 mila euro che dovrà essere anticipata dal gestore uscente che in realtà è più di uno nel nostro ambito perché ci sono quattro gestori i tal gas che svolge un ruolo come abbiamo visto durante la commissione preponderante ma ce ne sono anche altri una somma che viene ripartita in proporzione al numero delle utenze dei punti in pratica esistenti nei vari comuni e che successivamente questi comuni potranno ottenere come rimborso una volta dimostrato di aver effettuato la spesa ecco se i comuni eccederanno il limite di rimborso stabilito corrisponderanno con i loro fondi propri diciamo questi sono i contenuti della convenzione che questa sera il consiglio è chiamato ad approvare per un quadro più generale della situazione se siete d'accordo se siete interessati io cederei la parola all'ingegner Donà che è il consulente del comune per quel che riguarda la stima la valutazione delle nostre reti in modo che vi può spiegare a livello più generale quello che è la dinamica diciamo dello svolgimento di questa gara buonasera a tutti per vista l'ora cerco di essere estremamente sintetico ma insomma mi sembra che già l'assessore ha dato molti elementi vi avevo preparato una presentazione che è abbastanza dettagliata e tecnica magari la vediamo molto all'acqua di rosa ecco però se poi volete degli approfondimenti ci fermiamo e li facciamo sì appunto io assisto il comune sia per quello che riguarda la procedura di gara sia per quello che riguarda la valorizzazione della rete gas valorizzazione della rete gas che è uno dei passaggi necessari per arrivare allo svolgimento alla conclusione di questa gara queste due slide riassumono cioè questa slide riassume i riferimenti normativi che vedete sono parecchi in realtà una è saltata com'è ecco non c'è il foglio 3 non so perché scusate è saltato comunque questo è per dirvi che la normativa la normativa in questo campo è numerosa e si è stratificata nel tempo con tutta una serie di interventi che hanno reso la materia piuttosto ingarbugliata e piuttosto complessa da sviscerare tanto è vero che probabilmente chi di voi è in consiglio comunale da più tempo si ricorda che già nel 2006 2007 si parlava della questione del servizio di distribuzione gas e all'epoca nel 2007 era stata svolta diciamo un contraddittorio una trattativa con l'Italgas che aveva condotto alla definizione di un rapporto di concessione che sarebbe andato avanti fino appunto al 31-12-2012 e con la corrisponsione di un canone l'esecuzione di un certo numero di estensioni una certa quantità di estensioni di rete cosa succede sostanzialmente che oggi la normativa impone che il servizio di distribuzione quindi tutto quello che riguarda la gestione delle reti la costruzione di nuove reti la manutenzione degli impianti venga affidato in concessione per 12 anni con gara a livello svolta a livello sovracomunale quindi a livello di quell'ambito che adesso è quell'ambito rosa che sostanzialmente ricalca come diceva l'assessore la provincia di Pordenone con qualche sconfinamento nella provincia di Treviso nella provincia di Venezia gara quindi sovracomunale che appunto sarà svolta dal comune di Pordenone quale soggetto si andrà a individuare si andrà a individuare un soggetto ripeto che si occuperà esclusivamente della distribuzione e è un soggetto che non c'entra niente invece con la fornitura del gas la fornitura del gas quindi la vendita diciamo al dettaglio al singolo cliente del gas è un mercato che è completamente liberalizzato e che vede il diciamo i fornitori avvalersi invece dei gestori della distribuzione in questo caso quindi del gestore che sarà individuato con gara d'ambito per la consegna del gas ai singoli utenti i comuni interessati da quest'ambito sono all'incirca una cinquantina non sono tutti metanizzati perché una parte del territorio è montano una parte sono non hanno la distribuzione del gas metano ma hanno la distribuzione di aria propanata o di GPL diciamo delle varianti ecco di gas da riscaldamento tenete presente che ecco la gara che andiamo a fare riguarda solo ed esclusivamente il gas naturale quindi la distribuzione di questo particolare del metano sostanzialmente il decreto prevede tuttavia che siano coinvolti anche i comuni non metanizzati o comunque con reti di altro genere perché va valutata in fase preliminare l'eventuale possibilità di ricondurli a una distribuzione di gas metano o a una realizzazione della rete di distribuzione quindi anche questi comuni fanno parte poi sottoscrivono la convenzione e fanno parte del sodalizio che diciamo viene sancito da questa convenzione come diceva l'assessore in questo ambito per quanto riguarda i comuni metanizzati è assolutamente prevalente Italgas che vedete ha l'81% dei punti di riconsegna cioè delle utenze la fetta della torta in colore azzurrino mentre altri gestori cioè 2i Rette Gas che sarebbe la ex Nrette Gas Amga l'azienda di Udine Ascopiave che è un'azienda del Trevigiano e la Multiservizio Azzanese hanno una quota di mercato diciamo di utenti della distribuzione molto marginale diciamo quali sono gli elementi principali della gara gli elementi principali della gara sono sostanzialmente due un primo elemento riguarda il fatto che chi subentra nella gestione quindi il gestore d'ambito è tenuto a rimborsare i gestori uscenti quindi le varie Italgas Amga Ascopiave eccetera ciascuno per la propria quota parte a rimborsarli della parte non ammortizzata degli investimenti eseguiti sul territorio quindi per capirci Italgas ha costruito in quota parte perché una parte della rete è stata costruita con fondi regionali e risulta di proprietà comunale Italgas ha costruito la rete nel territorio comunale di Pordenone e gli investimenti fatti al netto delle somme pagate dal comune o dai privati costituisce una montare di investimenti che danno luogo a un residuo perché non sono completamente ammortizzati ad oggi in base alla normativa delle gare d'ambito ci sarà dunque un rimborso che andrà corrisposto dal gestore d'ambito a Italgas al momento del subentro questo meccanismo vale per ciascun comune chiaramente se il gestore d'ambito è Italgas che si riconferma Italgas non rimborsa se stessa viceversa se il gestore d'ambito individuato con gara è un gestore diverso pagherà questo rimborso la questione del rimborso è importante perché il rimborso di tutto l'ambito quindi relativo a tutte le reti ammonterà sarà dell'ordine di un centinaio di milioni di euro quindi voi capite che a questa gara parteciperanno dei soggetti che devono avere delle spalle piuttosto robuste dal punto di vista finanziario chiaramente un gestore come Italgas che parte da una posizione di assoluto predominio nel senso che ha l'80% dei punti di riconsegna e quindi verosimilmente è già titolare dell'80% di questo rimborso e chiaramente un soggetto come Italgas ha una posizione di vantaggio insito nel meccanismo di gara appunto perché non dovrà finanziarsi per quell'80% di capitale che come vi dicevo è dell'ordine dei 100 milioni di euro chiaramente un soggetto che non è presente nell'ambito deve proprio mettere sul piatto tutto il capitale e quindi parte parte svantaggiato poi gli elementi su cui si svolge la gara come giustamente diceva molto sinteticamente l'assessore sono di tipo economico vale a dire uno sconto sulla tariffa praticata agli utenti e sui sulle tariffe praticate all'utenza per i vari servizi che vengono svolti un'offerta migliorativa sulle prestazioni di tipo qualitativo e di sicurezza e continuità del servizio e poi piani di sviluppo potenziamento e modernamento della rete la parte del leone nell'impostazione ministeriale perché il bando è definito dal ministero la fa il piano di investimenti sviluppo potenziamento della rete e pesa per circa il 45% dei punti come vi dicevo il bando è predeterminato dal ministero la possibilità di personalizzarlo da parte degli enti è molto limitata e riguarda sostanzialmente i eventuali interventi specifici di sviluppo delle reti che ciascun ente può valutare sulla base di indicazioni che saranno date dalla stazione appartante quindi dal comune di Pordenone io direi che mi fermerei qui e se avete domande posso rispondere insomma grazie ingegnere ci sono richiesti i chiarimenti no bene dichiaro aperta la discussione non vedo iscritti primo secondo intervento nessun iscritto dichiaro chiuso la discussione passiamo a dichiarazione di voto nessuna dichiarazione di voto pertanto dichiaro chiuso la dichiarazione di voto e passiamo allora la votazione bene pongo ora in votazione la proposta di deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 42 2014 Atem Gas Pordenone servizio di distribuzione del gas naturale approvazione schema di convenzione regolante i rapporti tra i comuni dell'ambito Pordenone dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto legge della votazione seguente presenti 29 votanti 29 maggioranza 15 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti nessuno la deliberazione viene approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione dichiaro chiuso le operazioni di voto legge della votazione seguente presenti 29 votanti 29 maggioranza 21 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti nessuno l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene signori dichiaro sono le ore 23 02 dichiaro chiusi i lavori del consiglio comunale il consiglio verrà riconvocato a domicilio come previsto dal regolamento buonanotte a tutti grazie 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 grazie